Buongiorno e benvenuti alla prima edizione della giornata del terzo settore. Io sono Michela Presta, delegato del rettore per comunicazione, orientamento e fundraising e do il benvenuto a tutti i relatori che hanno accettato con entusiasmo di essere qui con noi stamattina e a tutti voi che siete collegati con noi, quindi agli studenti dei nostri corsi universitari, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e anche a chi studente in questo momento non è. La giornata del terzo settore è inserita in una rassegna che si intitola New Career Opportunities e lo scopo che è iniziata la settimana scorsa con la giornata delle carriere internazionali e lo scopo di questa rassegna è raccontarvi gli sbocchi professionali in un mondo a cui magari non pensereste mai quando scegliete il percorso formativo oppure ci avete pensato però non sapete come arrivarci. Il terzo settore è il mondo delle associazioni non profit, del volontariato, della solidarietà, della comunità. Quest'anno è stato un anno particolarmente difficile, oggi è una giornata particolarmente triste. E uno dei primi eventi che abbiamo dovuto affronteggiare in quest'anno in cui siamo stati confinati nello spazio, in un tempo senza tempo, è stato vedere, scretolarsi il concetto di comunità come l'abbiamo sempre pensato, scretolarsi, allentarsi i legami, le relazioni e quindi chi lavora in questo settore e chi collabora con questo settore ha dovuto rimboccarsi le maniche e cominciare a ricostruire, ricostruire il concetto di comunità magari in una maniera diversa, ritessere legami e relazioni. Per me il terzo settore è questo, per me il terzo settore è comunità, è tessere relazioni, lavorare insieme per il futuro di tutti. Ovviamente in una mattina non avremo mai potuto raccontarvi tutto quello che c'è nel terzo settore, quindi vi racconteremo che cos'è il terzo settore e come si sta evolvendo. Vi presenteremo delle testimonianze di persone che lavorano nell'ambito del terzo settore per raccontarvi quali caratteristiche dovreste avere per pensare di entrare in un mondo come questo, che tipo di percorso formativo fare, quali sono gli sbocchi che questo mondo può darti. Questo è un live event, il che vuol dire che non potete fare le domande direttamente ai relatori, ma le potete scrivere nella chat e poi sarà il moderatore che farà le domande. Nella prima parte della mattinata io sono il moderatore, poi passerò il testimone nella seconda parte della mattinata al professor Mutti e alla professoressa Barile. Dunque, che cosa mi rimane da dire? Ah sì, che siamo anche videoregistrati e quindi a un certo punto sul nostro sito appariranno anche le videoregistrazioni delle diverse sessioni, così potete risentire quello che vi ha particolarmente appassionato o quello che vi siete persi in questa mattinata. Non mi rimane che ringraziare l'ufficio orientamento e placement, che insieme alla commissione placement ha organizzato questa mattinata di cui sono molto orgogliosa, i servizi tecnici che non sono fantastici, ci sono super stra iper fantastici, ricordare ai relatori di mantenere i tempi che ci siamo dati in maniera tale che tutti possano parlare e magari possiamo anche rispondere a qualche domanda e augurare a tutti buon lavoro. Quindi apro la prima sessione di stamattina, che è dedicata proprio a raccontarvi che cos'è il terzo settore e passo subito la parola alla professoressa Giulia Tiberi del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture del nostro Ateneo. Prego Giulia. Grazie, ringrazio la professoressa Prest. L'iniziativa di questa giornata sul terzo settore è davvero importante, soprattutto in questo momento, come già tu ricordavi. Si tratta di un tema che è divenuto centrale, peraltro, in questo contesto di pandemia. Solidarietà, sostenibilità, terzo settore sono strettamente collegati e partiamo anzitutto da un dato, di fatto. Il terzo settore ha raggiunto ormai delle dimensioni notevoli, come poi ulteriormente diranno gli altri relatori. Se prendiamo spunto dalla fotografia che ha fatto l'Istat nell'ultimo censimento delle istituzioni del terzo settore in Italia, possiamo notare come questi enti siano ormai più di 300 mila, coinvolgano quasi 5 milioni di volontari e circa un milione tra dipendenti e collaboratori. Quindi vedete una dimensione davvero ragguardevole. I cosiddetti enti del terzo settore, quindi le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, le NG, le imprese sociali, ciò di cui poi parleremo in questa giornata, sono enti e soggetti sempre più decisivi per rispondere alle sfide che la nostra società vive ogni giorno, in termini ad esempio di inclusione sociale, inclusione lavorativa, lotta alla povertà, riqualificazione ambientale, solo per citare alcuni capitoli. In questo scenario però naturalmente è decisivo anche che gli enti del terzo settore possano dotarsi di professionisti preparati, competenti per poter sviluppare i progetti sociali di qualità, per poterli gestire in modo ottimale nel tempo tipico all'interno del quale un progetto si deve svolgere. E dunque è importante che il nostro Ateneo abbia organizzato questa giornata, sia come incontro di orientamento, rivolto in primis ai nostri studenti o comunque a coloro che si sono appena laureati, perché possano pensare anche a questo mondo come strada per la loro futura carriera professionale. Peraltro il nostro Ateneo dedica già da vari anni un'attenzione a questo mondo e come appunto è già stato ricordato nella successiva sessione, mi sarà l'approfondimento legato al Master in Promotori del Dono con i responsabili, il professor Porro, il dottor Casadei e le ulteriori testimonianze che verranno portate di questa felicissima iniziativa giunta ormai alla terza o quarta edizione, non ricordo più. E quindi appunto questo dà proprio la dimensione dell'attenzione, ripeto, che l'Università dell'Insubria ha dedicato al tema del terzo settore. Ed è soprattutto importante cogliere l'impostazione che da sempre connota questa nostra attenzione, ovvero sia un'attenzione in chiave multidisciplinare. Oggi sentiremo discorsi più giuridici con il mio intervento, ma vi saranno interventi di sociologi, di economisti e per tutto quello che seguirà. Quindi questo è importante, affrontare il tema in chiave multidisciplinare. Bene, col mio intervento vorrei offrire alcune piste che saranno poi ulteriormente sviluppate nel corso della mattinata. In particolare vorrei concentrarmi su tre punti che ritengo particolarmente qualificanti perché a mio avviso permettono di collocare le nostre riflessioni di questa giornata in un più ampio scenario, quale patrimonio comune quasi dal punto di vista culturale potrei dire. Ebbene, primo punto. Il terzo settore va certamente inquadrato come un fenomeno di antiche origini, ma che ha ormai acquisito un nuovo volto. Soprattutto ha conquistato, e questo è molto importante, una definizione in positivo, al posto della definizione che fino a ancora pochi anni or sono era quella maggiormente utilizzata, improntata a una logica residuale. Si parlava infatti genericamente di non profit, mondo non profit. Quindi secondo una accezione appunto residuale o positiva al mondo delle imprese legate invece, improntate al profitto. Ecco, se guardiamo al mondo di oggi e guardiamo in particolare alla riforma che il legislatore a partire dal 2016 e poi nel 2017 ha prontato, vi è stata prima una legge di delega del Parlamento per il Governo nel 2016, cui poi ha fatto seguito un codice del terzo settore, il decreto legislativo 117 del 2017. Ebbene, con questa normativa per la prima volta abbiamo avuto un inquadramento, un nuovo volto in positivo del terzo settore, soprattutto si è avuto il pieno riconoscimento di quello che è stato chiamato il polo dell'interesse generale. Mi spiego meglio. Se noi guardiamo in particolare ad alcuni articoli del codice del terzo settore e proprio collocati all'inizio, in particolare nell'articolo 4 di questo codice, ecco che vengono individuati quali sono i soggetti del terzo settore. Si parla di soggetti privati che, anziché perseguire interessi eminentemente privati, perseguono, dice il legislatore, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale. Ed ecco dunque che questo complesso di soggetti in ragione appunto di questa definizione è terzo, è qualificato terzo sia rispetto ai soggetti pubblici, cioè a quei soggetti che perseguono interessi pubblici individuati da leggi, ma è terzo anche rispetto ai soggetti privati, quei soggetti che perseguono interessi privati da essi liberamente individuati. E qui anzitutto cogliamo, a mio avviso, un'importante svolta. Se infatti in origine il termine terzo settore derivava da un'individuazione appunto di carattere residuale per cui il terzo settore era tutto ciò che non apparteneva né allo Stato né al mercato, oggi invece grazie a questa riforma legislativa importante la situazione si è ribaltata. Il terzo settore è definito non più per esclusione ma in positivo grazie al riferimento all'interesse che esso persegue, ovvero sia l'interesse generale. E questo punto è una grande svolta. Si potrebbe dire che oggi nella nostra società esistono tre grandi poli composti ognuno da una pluralità di soggetti anche molto diversi tra loro per funzioni, dimensioni, organizzazione, risorse. anzitutto il polo degli interessi pubblici rappresentato dalle amministrazioni pubbliche dunque le amministrazioni dello Stato e all'interno di queste le scuole, le università, gli istituti gli enti strumentali, le camere di commercio e poi oltre alle amministrazioni dello Stato le regioni, i comuni. Bene, a questo primo polo degli interessi pubblici si affianca il polo degli interessi privati rappresentato da tutti i soggetti di carattere privato che perseguono fini diversi dagli enti del terzo settore e poi abbiamo appunto il polo dell'interesse generale rappresentato dagli enti del terzo settore così come appunto definiti e disciplinati all'interno del codice del terzo settore e questo quindi polo dell'interesse generale è la risultante di soggetti privati singoli o associati come meglio vedremo. Dunque prima conclusione importante cui dobbiamo pervenire il ruolo che viene ora assegnato al terzo settore anche alla luce di questa importante riforma è un nuovo ruolo non una semplice riserva ma un nuovo spazio sociale e giuridico in cui la società civile emerge come un soggetto collettivo attivo secondo punto che mi preme sottolineare il terzo settore va ormai qualificato come uno spazio necessario a luce della nostra Costituzione esso infatti traduce due in particolare due importanti principi costituzionali due valori costituzionali che il legislatore le pubbliche amministrazioni la giurisdizione sono chiamati ad imperare a tradurre in concreto e il primo principio è il principio di solidarietà sociale che è iscritto sin dall'origine nella nostra Costituzione agli articoli due e tre qui si fa appunto riferimento ai doveri inderogabili di solidarietà sociale economica politica e ancora si parla di pieno sviluppo della persona umana ed ecco dunque che attraverso la logica del terzo settore la logica della solidarietà la logica del dono come poi ascolteremo troviamo un altro modo per perseguire questo pieno sviluppo della persona umana ma accanto a questo principio di solidarietà in anni più vicini a noi in particolare nel 2001 all'interno della nostra Costituzione è stato iscritto un principio a tutti gli effetti rivoluzionario il principio di sussidiarietà orizzontale che è stato canonizzato nell'articolo 118 della Costituzione e che cosa dice questa norma molto importante prevede che lo Stato le regioni le città metropolitane i comuni dunque potremmo dire nel complesso la Repubblica favoriscono le autonome iniziative di cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà ora su questa disposizione sono stati ovviamente scritti già fiumi di inchiostro ma quello che mi preme sottolineare che è stato anche riaffermato dalla nostra Corte Costituzionale è quel termine favoriscono da intendersi come devono favorire e quindi con questa importante riforma è stata riconosciuta e legittimata la possibilità per i cittadini di essere soggetti attivi nel perseguimento dell'interesse generale ed è una norma forse unica al mondo da questo punto di vista così formulata quella che è stata inserita nella nostra Costituzione ulteriore punto che penso sia importante richiamare all'inizio della nostra giornata è appunto legato all'articolazione di questa riforma 2016-2017 una riforma che ha comportato una revisione globale degli enti del terzo settore il fatto stesso che esista un codice che sia stato previsto un registro unico degli enti del terzo settore in luogo della molteplicità dei registri locali che appunto sussistevano questa normativa introduce ulteriormente una disciplina in materia di attività di volontariato di promozione sociale di mutuo soccorso potenzia come ascolteremo tra poco il ruolo dei centri di servizio per il volontariato incaricati di fornire una formazione un supporto tecnico un sostegno all'associazione del territorio e poi ancora la riforma ha toccato il servizio civile definendo un servizio civile universale e anche qui avremo la sessione dedicata a questo tema bene in conclusione il punto importante da ulteriormente dobbiamo acquisire è che questa riforma ha comportato un coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore in particolare questo coinvolgimento attivo è onere in capo alle amministrazioni pubbliche nel codice del terzo settore c'è infatti una norma l'articolo 55 molto importante che prevede che le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni di programmazione di organizzazione a livello territoriale degli interventi dei servizi che appunto riguardano i temi toccati del terzo settore debbano assicurare il coinvolgimento attivo così dice la norma degli enti del terzo settore attraverso forme di coprogrammazione di coprogettazione di accreditamento ecco si parla di coinvolgimento attivo il fatto che sia attivo quindi rafforza ulteriormente il riferimento al coinvolgimento questo significa che la disposizione prevede che gli enti del terzo settore siano coinvolti in maniera tale da poter appunto essere protagonisti a fianco alle amministrazioni pubbliche in questa attività di coprogrammazione coprogettazione degli interventi dei servizi e dunque si va sempre di più andando verso lo scenario dell'amministrazione condivisa un'amministrazione che appunto attraverso la coprogrammazione la coprogettazione favorisce come dice l'articolo 118 della Costituzione gli enti del terzo settore e il loro coinvolgimento per lo svolgimento delle attività di interesse generale ma a sua volta il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore è naturalmente vantaggioso per le pubbliche amministrazioni ebbene in conclusione questa riforma che certamente dispone e configura un nuovo volto al mondo del terzo settore come dicevo in realtà fa leva non soltanto su enti associativi che pur sono disciplinati in questo codice ma fa anche riferimento più semplicemente ai cittadini attivi dunque nel polo dell'interesse generale rilevano non soltanto le associazioni gli enti giuridici del terzo settore ma anche tutti quei cittadini spesso attivi non iscritti necessariamente ad enti del terzo settore come ad esempio quei cittadini che si attivano in comitati di quartiere in associazioni via cittadini in altre anche formazioni sociali di tipo informale bene questi cittadini attivi sono volontari esattamente come quelli che operano all'interno degli enti del terzo settore e dunque è importante anche qui sottolineare che questo coinvolgimento del terzo settore da parte delle amministrazioni pubbliche può avvenire sia in maniera più strutturata attraverso appunto quella disciplina che già richiamavo dell'articolo 55 proceduralmente definita ma può avvenire anche in maniere molto più fluide con il coinvolgimento appunto di cittadini singoli o comunque associate secondo entità informali con i quali si può avviare e già molti comuni lo hanno fatto e lo stanno facendo una collaborazione collaborazione che viene disciplinata ad esempio attraverso i regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni invito voi tutti a andare a cercare se il vostro comune ha adottato un simile regolamento ormai l'iniziativa è veramente molto diffusa e a riguardo vi è un sito di un ente di ricerca non voglio fare necessariamente pubblicità ma è certamente un ente di ricerca di riferimento per il terzo settore che è l'ABSUS sul sito di l'ABSUS voi trovate proprio il riferimento anche ai comuni che hanno adottato questi regolamenti e dunque quello del terzo settore è certamente un mondo in piena esplosione e come ascolteremo soprattutto nella giornata di oggi attraverso i successivi relatori io vi ringrazio grazie mille Giulia grazie davvero perché hai inquadrato il problema hai inquadrato il contesto e soprattutto mi piace fare riferimento continuo a questa coprogrammazione coprogettazione la parola co vuol dire insieme il terzo settore siamo tutti noi alla fine i cittadini attivi sono quelli che si rimboccano le maniche perché in questo momento ma non solo in questo momento è necessario lavorare insieme allora in attesa poi se arrivano domande poi appunto le registreremo e poi ve le faremo alla fine magari della sessione passiamo la parola al professor Sebastiano Citroni sempre del dipartimento di diritto economia e culture dopo aver inquadrato il contesto il professor Citroni ci parla di rischi e di opportunità nel terzo settore sì buongiorno a tutti grazie grazie a chi ha organizzato questa iniziativa quindi la commissione l'ufficio orientamento placement e grazie soprattutto alla delegata Michela Prest la collega Michela Prest per averla concretamente permessa allora io sono molto contento di partecipare a questa iniziativa perché per me il tema del terzo settore è molto importante corrisponde a uno dei miei principali interessi di ricerca e non solo diciamo è un tema che mi è caro a livello personale soprattutto se è declinato in relazione ai giovani alle opportunità per i giovani perché lo dico subito per cercare di arrivare alla fine su questo punto diciamo pensando anche al mio percorso a livello personale biografico la possibilità di sperimentarmi prima come volontario poi come operatore coordinatore di progetti in particolare nel volontariato internazionale è stata un'occasione fondamentale un'occasione di crescita professionale e personale perché perché io in queste esperienze che tra l'altro per inciso ho fatto con alcune delle organizzazioni che intervengono oggi ho trovato diciamo quella responsabilizzazione quella fiducia mi è stata assegnata che diciamo molto spesso viene dichiarata ma non è così tanto praticata nei confronti dei giovani che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro io nel terzo settore ho lavorato a diverso titolo e ho sistematicamente trovato delle organizzazioni che mi hanno invece dato una fiducia e delle responsabilità dei compiti delle mansioni di responsabilità di coordinamento dei progetti e questo mi ha fatto diciamo è stata una tappa importante soprattutto perché erano le prime esperienze che facevo in questo mondo questo lo dico perché non è un caso che sia avvenuto così per me cioè ovviamente dipende da tutta una serie di circostanze irripetibili legate alle persone che ho incontrato ma in realtà c'è una logica più generale che spinge le organizzazioni di terzo settore a dare fiducia a investire nei giovani e cercherò di mostrarlo con questo mio breve spero intervento allora cerchiamo un po' di capirci di cosa parliamo quando invitate un sociologo a parlare di terzo settore molto spesso la prima cosa che dice è non va bene l'etichetta terzo settore questo diciamo perché lo capiamo benissimo già sono state citate molte esperienze etereogene e diciamo è un mondo talmente differenziato al proprio interno che uno si chiede ma cosa c'entra la cooperativa che fa servizio di educazione all'infanzia con il comitato di quartiere cosa c'entra il terzo settore della provincia di Como con quello del Molise e c'è dentro di tutto il contrario di tutto e quindi l'etichetta è molto molto ampia anche perché il terzo settore di oggi è diverso dal terzo settore di due anni fa ed è molto diverso dal terzo settore che arriverà fra due anni quindi è un fenomeno etereogeneo differenziato notevole in modo molto rapido quindi quale opzione abbiamo per parlare di questo fenomeno tenendo insieme questa complessità in modo un po' più preciso possiamo guardare a quello che fa a quello che fa al terzo settore e in particolare mi piace un'altra etichetta altrettanto sintetica in generale che però secondo me ha dei vantaggi è un'etichetta che mi ha suggerito un amico un collega che è Tommaso Vitale di Siespo di Parigi allora che cosa fanno le organizzazioni del settore se ci pensate un attimo quello che fanno a diverso titolo è quello che il mio amico Tommaso chiama la pratica dell'obiettivo cioè loro hanno degli obiettivi alti anche di cambiamento di miglioramento di una serie di problematiche affrontare bisogni sociali e questi obiettivi non sono così rivendicati non sono dichiarati ma sono perseguiti attraverso una pratica quotidiana attraverso un lavoro strutturato talvolta talvolta in modo più come dire aperto e informale ma rimboccandosi le maniche e operando direttamente il cambiamento che si intende perseguire quindi queste due polarità che di solito pensiamo un po' in opposizione gli ideali alti e le pratiche concrete nel terzo settore cercano di andare insieme ci sono delle pratiche concrete che lavorano per un cambiamento che lavorano per portare avanti questo cambiamento ecco questa è un'etichetta altrettanto sintetica se volete è generale che racchiude un po' tutto però alcuni vantaggi allora almeno due innanzitutto ci fa capire qual è l'attrattiva che il terzo settore esercita o può esercitare sui giovani il richiamo perlomeno questo è stato vero nei miei confronti la possibilità di come dire di lavorare per il cambiamento sociale e non farlo solo così in termini astratti o in termini di rivendicazione ma di impegnarsi direttamente nel portarlo avanti capite che è qualcosa che affascina soprattutto chi appunto come in generale presumiamo i giovani hanno delle ambizioni di cambiamento di impegno nel mondo e via dicendo e quindi è un mondo che di per sé con questa definizione si capisce perché attrae i giovani un secondo vantaggio di questo tipo di inquadramento la pratica dell'obiettivo è che ci fa capire come cambia ho già detto che si tratta di un mondo molto mutevole la pratica dell'obiettivo ci fa capire che cambiano gli obiettivi quelli che sono i bisogni sociali oggi non lo erano vent'anni fa nascono nuovi problemi nuove forme di povertà nuove fragilità pensate al tema della povertà educativa dei minori non accompagnati sono temi relativamente recenti che sono emersi nel dibattito pubblico in cui il terzo settore si impegna e cambia anche la pratica cioè dalle pratiche con cui si perseguono questi obiettivi da normalmente il percorso dell'istituzionalizzazione da forme più aperte sperimentali anche informali le organizzazioni si organizzano si strutturano si professionalizzano e quindi le loro pratiche con cui portano avanti i loro obiettivi cambiano e c'è una grande varietà pensate alle differenze tra associazioni di promozione sociale organizzazioni di volontariato cooperative e via dicendo cambiano le pratiche cambiano gli obiettivi ecco oggi io vorrei sottolineare come ci troviamo dal mio punto di vista naturalmente in una situazione da questo punto di vista un po' ambivalente un po' così controversa se guardiamo a come cambiano le pratiche del terzo settore perché? perché da una parte diciamo abbiamo una grande fortuna il terzo settore non è mai stato così attrezzato e non intendo diciamo in termini di risorse economiche quanto soprattutto in termini di competenze competenze progettuali competenze gestionali competenze professionali degli operatori diciamo vent'anni fa trent'anni fa non esistevano percorsi di formazione specifici dedicati agli operatori ai coordinatori ai dirigenti del terzo settore oggi abbiamo un esempio qua il master ma c'è una grande addirittura pletora di offerta formativa per chi si vuole specializzare in questo mondo quindi non è mai stato così attrezzato il terzo settore come oggi per affrontare in modo efficace i problemi di cui si occupa per non svolgere solo quel ruolo di tampone che ogni tanto viene rimproverato l'ambulanza della storia che corre si rimbocca le maniche quando c'è l'emergenza no diciamo oggi il terzo settore ha le competenze per fare un lavoro anche sulle dimensioni strutturali dei problemi che affronta e questa è la fortuna da una parte dall'altra parte questa stessa situazione è anche un grande rischio perché? perché proprio quando ci sono le competenze più avanzate allo stesso tempo siamo in una situazione in cui il rischio di snaturamento dello spirito originario di molte realtà del terzo settore è più forte perché? perché è un po' un fenomeno inevitabile qualsiasi organizzazione è un fenomeno di come dire eterogenesi dei fini si chiamano cioè qualsiasi organizzazione nasce come un mezzo per perseguire uno scopo e tende un po' a diventare un fine in sé la sopravvivenza la riproduzione dell'organizzazione questo a qualsiasi livello la burocrazia lo esemplifica nel suo modo più evidente ma non solo è un fenomeno per cui tanto più ci si struttura tanto più diciamo si tende a perdere di vista l'obiettivo per cui si è strutturati e si lavora per la struttura stessa per il mantenimento e la riproduzione della struttura stessa allora si tratta di un rischio dal mio punto di vista non è inevitabile che accada un fenomeno di questo tipo di allontanamento dallo spirito originario perché è vero che il terzo settore nasce in modo come dire molto aperto sul territorio molto anche sperimentale e oggi invece si tratta di organizzazioni con spesso centinaia di dipendenti e collaboratori però non è inevitabile che avvenga questo snaturamento dello spirito originario e un argine rispetto a questo tipo di rischio sono i giovani e la presenza dei giovani nel terzo settore perché non tanto diciamo per le competenze aggiornate che portano pensate alla comunicazione digitale tanto per citare un tema ma soprattutto per la spinta ideale con cui entrano i giovani nel mondo del lavoro e questa spinta ideale è capace di rinnovare quello spirito originario di portare quella freschezza e quella necessità di aprirsi di mettere in discussione routine consolidate e quindi diciamo il terzo settore da questo punto di vista ha bisogno dei giovani per poter mantenere quel tipo di apertura originaria e quel tipo di freschezza e qua torno un po' al punto di partenza personale che vi ho citato non è un caso che nella mia esperienza io abbia trovato quella fiducia quella responsabilità che altrove magari più difficile nel mondo del lavoro incontrare perché perché se è vero che da una parte i giovani sono attratti dal mondo del terzo settore come pratica dell'obiettivo dall'altra parte è vero che il terzo settore ha bisogno di giovani e la mia impressione è che molte organizzazioni soprattutto quelle più consapevoli quelle più avvedute in un certo senso lo sappiano e non vedono l'ora di dare fiducia responsabilità a i neoleureati a chi entra per la prima volta in questo mondo perché sanno perché sanno che quella fiducia che donano per citare il tema di cui parliamo oggi sarà restituita diciamo con interessi molto generosi in termini non solo di diciamo di contributo all'efficacia dell'operato magari anzi anche no magari appunto i giovani possono fare anche degli errori gli sarà restituita quel tipo di fiducia in termini di un rinnovamento di quello spirito originale che caratterizza questo mondo nelle sue fasi iniziali nelle fasi che in sociologia si chiamano nello stato nascente ecco perché diciamo penso che non sia un caso che nella mia vicenda personale sia andata così le organizzazioni del terzo settore sono molto interessate soprattutto quelle più avvedute lo ripeto a investire a dare fiducia a dare responsabilità e non solo mazioni operative ai giovani che entrano in questo mondo perché sanno che questo tipo di fiducia gli sarà restituita in termini di benefici all'intera organizzazione in termini di capacità di mettere in discussione routine consolidate quindi tornare un po' a quell'apertura quella sperimentazione originaria ecco ci tenevo solo a dire questo in termini molto sintetici ma spero chiaro Sebastiano posso dire entusiasmo puro? entusiasmo puro veramente l'inquadramento che avremmo voluto per raccontare a una platea giovane perché entrare nel terzo settore e che cosa vuol dire entrare nel terzo settore cioè quando parliamo con i ragazzi abbiamo l'open day tra poco il 9 di aprile cominciamo rendiamo disponibili i materiali e poi la settimana dopo facciamo i mini eventi e la cosa che facciamo è dire a tutti i ragazzi seguite i vostri sogni cioè avete quella seguire i sogni vuol dire metterci passione metterci passione vuol dire avere veramente la forza di seguire un ideale di metterci tutto l'entusiasmo possibile di inventarsi soluzioni nuove e hai raccontato proprio hai raccontato questo che era quello che in qualche modo dipingiamo in ogni incontro che facciamo con i ragazzi quindi io ti ringrazio veramente tantissimo di questa cosa e vorrei farti parlare per 200 ore per farci raccontare la tua esperienza ma ci sarà occasione perché questa è solo la prima volta che parliamo del terzo settore e quindi ne parleremo tantissimo e faremo diverse sedute nei prossimi mesi anni adesso vedremo e a questo punto io passo la parola adesso che Giulia ha inquadrato tu ci hai dato la spinta dell'entusiasmo e i motivi per cui veramente un giovane è il terzo settore anela ad avere ingresso di giovani all'interno della propria struttura adesso mettiamo le mani in pasta e passiamo la parola al dottor Maurizio Ampolini che è il direttore del centro servizi volontariato in Supria allora già la professoressa Tiberi ha inquadrato un po' l'orizzonte normativo in cui il volontariato e il terzo settore si situa e che è un po' anche l'origine dei centri di servizio per il volontariato centri di servizio per il volontariato nascono a seguito dell'approvazione nel 1991 della legge quadro sul volontariato che dopo anni di silenzio del legislatore si mette mano finalmente al terzo settore la legge quadro del 91 è quella che riconosce da una parte il valore del volontariato quindi la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione già stato detto solidarietà e ruralismo vengono definite per la prima volta quali sono le organizzazioni di volontariato ovvero ogni organizzazione ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui è l'articolo 2 che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti la gratuità dell'azione volontaria è alla base sia della legge che di tutta la regolamentazione delle organizzazioni di volontariato in realtà questa legge viene chiamata legge quadro sul volontariato sarebbe più corretto definire la legge quadro sul volontariato organizzato per i motivi che si dicevano prima perché poi in realtà ci sono tante forme di volontariato anche singolo o di volontariato civico che non passano necessariamente attraverso le associazioni la legge tra le varie cose prevedeva e qui fu un colpo di genio del legislatore non si sa fino a che punto voluto o casuale che per supportare le organizzazioni di volontariato di cui veniva riconosciuto il valore e che diventavano un partner importante anche per le pubbliche amministrazioni ci fosse però bisogno di passare da una fase un po' pionieristica e garibaldina a una fase più costruita per infrastrutturare le organizzazioni il legislatore pensò di individuare questi enti centri di servizio per il volontariato che avrebbero in qualche modo seguito accompagnato e aiutato le organizzazioni stesse il colpo di genio fu quello di non finanziare attraverso la risorsa pubblica questi enti ma di chiedere a un altro ente chiamiamolo del terzo settore in senso lato che si stava sviluppando in quegli anni cioè le organizzazioni cioè le fondazioni di origine bancaria il colpo di genio fu quello di creare una sorta di correlazione tra le fondazioni di origine bancaria che si costituivano proprio in quegli anni dallo scorporo dall'attività bancaria con l'attività filantropica delle banche di diritto pubblico e delle casse di risparmio e i centri di servizio che invece avevano lo scopo e la funzione di aiutare il volontariato a crescere a strutturarsi di fatto un decreto del ministero meglio individuò poi le funzioni quindi scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato non erogano contributi cioè noi non diamo contributi alle associazioni ma eroghiamo servizi che tipo di servizi la legge del 91 e il successivo decreto applicativo del 97 sostanzialmente individuavano quattro tipi di servizi che erano la promozione del volontariato sia nel senso di attivare nuove iniziative e rafforzare quelli esistenti la consulenza qualificata quindi gli atti costitutivi gli statuti i regolamenti l'aiuto per la gestione quotidiana delle associazioni la formazione la formazione sia dei volontari già in essere sia degli aspiranti volontari e poi tutta un'attività di documentazione sul volontariato locale e nazionale in questo quadro fu lasciato alle regioni la facoltà di scegliere se costituire una rete di tipo provinciale piuttosto che di tipo regionale alcune regioni come le Marche la Toscana e la Sardegna fecero la scelta di avere un unico centro di servizio a livello regionale Lombardia Emilia e Veneto invece fecero la scelta delle province per cui pur con una tempistica diversa in Lombardia si arrivarono a costituire i 12 centri uno per ciascuna delle province della nostra regione ma come è stato detto prima con la legge delega del 2016 e il decreto legislativo codice del terzo settore del 2017 anche i centri di servizio per il volontariato nell'ambito di un più ampio rinnovamento e rilancio e riqualificazione del terzo settore pure come diceva il sociologo nella sua complessità e nelle sue diverse articolazioni si individuarono delle nuove prospettive di attività del CSV peraltro la legge che veniva ricordata ha portato anche all'abrogazione di alcune delle leggi preesistenti per cui la stessa legge che citavo prima la legge 4 sul volontariato la 266 del 91 di fatto non esiste più è stata in qualche modo ricompresa all'interno del codice del terzo settore e così pure le parti che riguardavano i centri di servizio per il volontariato come è stato detto questo questo decreto contiene per la prima volta una definizione valida sotto il profilo giuridico di ente del terzo settore e come potete vedere gli enti del terzo settore sono una molteplicità di enti anche molto diversi tra di loro si va da un gruppo di enti che fanno riferimento al primo libro del codice civile quindi sostanzialmente comitati fondazioni e associazioni piuttosto che a delle imprese vere e proprie sia in forma di cooperativa sia in forma di impresa sociale quindi è veramente una realtà molto vasta e molto variegata fulcro di questa riforma che sta venendo avanti un po' a rilento onore del vero perché se pensate che la legge delega è di cinque anni fa il decreto legislativo di quattro anni fa dovrebbe essere il famoso famigerato a secondo dei punti di vista RUNS la sigla non è bellissima come evocazione sonora ma vuol dire registro unico nazionale del terzo settore che dovrebbe avviarsi finalmente il 21 il prossimo 21 aprile anche un articolo del Sole 24 ore di qualche giorni fa lo ricordava però io come San Tommaso fin quando non lo vedo non ci credo gli enti variegati del terzo settore costituiscono le diverse sezioni di questo registro per cui abbiamo le organizzazioni di volontariato così come definite da quella legge che ricordavo prima ormai abrogata ma di fatto ricompresa all'interno del codice le associazioni di promozione sociale gli enti filantropici le imprese sociali incluse le cooperative sociali le reti associative le società di mutuo soccorso ricordavo prima qui la legge di riferimento addirittura è della fine dell'Ottocento ed è tuttora in vigore e altri enti del terzo settore i centri di servizio per il volontariato non solo non vengono abrogati dalla riforma ma ampliano il loro raggio d'azione quindi non più si rivolgono soltanto alle associazioni di volontariato o a quelle di promozione sociale ma hanno come orizzonte l'intero l'intera platea degli enti del terzo settore con particolare riguardo e riferimento soprattutto all'azione volontaria quindi ai volontari che sono un po' il trait d'union che unisce tutti gli enti del terzo settore tra di loro attraverso la capacità di attivare anche questa autonoma capacità dei cittadini in qualche modo di cooperare al bene comune tra le altre prescrizioni della riforma c'era il fatto che i centri dovessero avere un territorio di riferimento di almeno un milione di abitanti per cui regioni come la Lombardia che avevano fatto la scelta di istituire i centri di servizio per il volontariato su base provinciale sono stati costretti volenti o nolenti ad adeguarsi per cui dai 12 centri che eravamo oramai dal primo gennaio 2018 siamo stati molto dirigenti in questo la prima regione in Italia siamo passati a 6 per cui Milano Bergamo e Brescia che sono le tre province che superano il milione di abitanti hanno mantenuto la struttura provinciale Varese si è fusa con Comu dando origine al centro servizio per il volontariato dell'insubria Monza insieme a Lecco e Sondrio costituisce un altro centro di servizio che ha un territorio di competenza che va dalla periferia di Milano a Livigno vi lascio immaginare la complessità della gestione di un territorio del genere e lo stesso vale per la Lombavia Sud che comprende le quattro province di Pavia, Lodi Cremona e Mantua Funzione fondamentale dei centri di servizio è promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore senza distinzione tra enti associati e non associati cioè ogni ente del terzo settore ha pieno titolo a rivolgersi ai centri di servizio per il volontariato per usufruire dei servizi servizi che sono in gran parte a titolo gratuito e per quelli un po' più complessi può venire richiesta una piccola compartecipazione alle spese qualcuno potrebbe chiedermi ma chi governa tra virgolette i centri di servizio sono le stesse associazioni i centri di servizio sono gestiti da associazioni di associazioni in cui chi non vuole essere semplicemente un utente o peggio ancora un cliente del centro di servizio ne diventa anche socio e quindi si fa carico di gestire anche l'attività che i centri devono svolgere sul territorio quindi è una responsabilità anche che soprattutto le associazioni più strutturate si assumono ma anche quelle più piccole perché lo spirito della legge è proprio quello che le diverse forme di volontariato possono comunque in qualche modo essere valorizzate e rappresentate i servizi alla luce della nuova legge che i centri di servizio erogano sono servizi di promozione orientamento animazione territoriale se non tuo conto anche delle nuove forme di volontariato che stanno sorgendo come veniva ricordato prima servizi di formazione questo è una riconferma di quello che era previsto anche nella norma precedente servizi di consulenza assistenza qualificata ed accompagnamento proprio perché è imminente oramai l'entrata in vigore del nuovo registro con tutti gli adempimenti anche burocratici che questo comporta non vi dico quanto i nostri centralini in queste settimane siano subissati di chiamate di associazioni e presidenti che sono alla ricerca disperata di qualcuno che gli dia una mano tenete presente che dal punto di vista genetico il volontario è allergico alla burocrazia e però un po' di burocrazia ci vuole e quindi cercare di far coesistere le due cose insieme è una delle fatiche a cui noi ci applichiamo userei dire quotidianamente servizi di informazione e comunicazione vorrei ricordare ad esempio in provincia di Como il quotidiano locale la provincia che tutte le settimane ha una pagina intera realizzata in collaborazione con il CSV in Subria servizi di ricerca e documentazione nella serie Rivarese abbiamo una biblioteca specializzata sul volontariato del terzo settore inserita nell'ambito del sistema bibliotecario provinciale servizi di supporto tecnico-logistico il tutto da erogarsi attraverso questi principi principi di qualità economicità territorialità universalità integrazione nonché trasparenza i CSV sono un sistema nazionale sono 386 punti di servizio gestiti dai CSV in tutto il paese questi dati non sono recentissimi ma sono gli ultimi certificati del 2017 i beneficiari dei servizi dei centri di servizio a livello nazionale quell'anno furono 48.161 dei quali 42.322 organizzazioni non profi delle quali poco più della metà quindi 24.000 organizzazioni di volontariato ma anche altri enti del non profi di gruppi informali piuttosto che 37.000 cittadini che si rivolgono ai centri di servizio per sapere vorrei fare volontariato aiutatemi a trovare un'associazione presso cui collocarmi e altre cose del genere i servizi appunto sono iniziative di promozione l'attività nelle scuole vedete sono gli sportelli scuola volontariato piuttosto che l'alternanza scuola lavoro che può avvenire anche negli enti del terzo settore nelle organizzazioni di volontariato l'orientamento la formazione le consulenze CSV di Ninsubre lo dicevo prima è il frutto della fusione dei due CSV presistenti di Varese di Comu le due serie sono rimaste pienamente operative la sede legale a Varese ma la sede di Comu in via col di Lana continua a esserci e funzionare noi da statuto quindi che recepisce quello che dice la norma cosa facciamo? facciamo formazione facciamo informazione promuoviamo il territorio ci facciamo carico magari anche in collaborazione con gli enti preposti per cui non ultimo dire anche l'università di attività di ricerca e documentazione attività di consulenza attività di supporto tecnico-logistico mettiamo a disposizione abbiamo messo a disposizione ad esempio in questi periodi le piattaforme tecnologiche per poter fare videoconferenze e altro prima magari mettiamo a disposizione le fotocopie c'è stata un'evoluzione anche in questo caso le aree di intervento in cui siamo articolati sono quattro servizi per le organizzazioni servizi per i cittadini e i volontari la cultura e l'animazione territoriale finisco con questa questa immagine tratta dal nostro bilancio sociale sugli stakeholder quindi che vanno dai finanziatori ai fornitori ai partner ai destinatari dei servizi ai soggetti istituzionali con cui ci rapportiamo è una rete che è stata intessuta nel corso di una ventina d'anni con caratteristiche magari un po' diverse c'è un genio in sloci diverso tra Varese e Como stiamo cercando non di livellare le due province nell'ambito dello stesso centro ma di valorizzare le eccellenze dell'una e dell'altra per condividerle è una sfida importante questa decennia di servizio perché vuole mantenere quella che veniva detto prima dal sociologo un'anima nel terzo settore cioè il terzo settore può e deve diventare anche sotto il profilo imprenditoriale una parte importante dell'economia civile di questo paese ma non deve perdere la sua anima i volontari oltre a fare tante belle cose farle volontariamente a farle gratuitamente devono in qualche modo mantenere anche questo entusiasmo positivo questa consapevolezza del loro ruolo e della loro importanza di cui poi ci si rende conto proprio nei momenti del bisogno e dell'emergenza poi magari le cose avvengono in modo paradossale l'azienda ospedaliera di Varese prima fa una comunicazione alle associazioni che si occupano di sanità parlo della primavera scorsa dicendo non potete entrare nelle strutture ospedaliere per prevenire il contagio le associazioni si adeguano dopo un po' la stessa azienda ospedaliera bussa le porte delle associazioni dicendo abbiamo bisogno che ci date una mano per gestire l'accoglienza per chi viene a fare i tamponi adesso per le vaccinazioni e quant'altro e quindi magari non sempre in un modo che fila liscio qualche volta la coprogettazione la coprogrammazione è un po' calata dall'alto però questa capacità di esserci di rispondere ai bisogni quando si viene chiamati c'è non vorrei essere polemico io di formazione sono un volontario del soccorso le associazioni le croci che fanno servizio in ambulanza sono tra gli enti di volontariato più antichi di questo paese è vero che qualche volta abbiamo la fissa della sirena però stiamo a dire nella nostra esperienza che siamo persone che di fronte al dolore e alla sofferenza altrui non ci tiriamo indietro o non chiediamo che sia qualcun altro a intervenire ma ci attrezziamo e ci organizziamo per dare delle risposte il più possibile efficace ed efficienti scusate se ho sforato e scusatemi anche se non mi fermerò con voi ma purtroppo devo andare al funerale del papà di una cara amica e quindi sono costretto a lasciarvi Dottor Ampolini la ringrazio veramente di cuore uno riprendo quello che lei ha detto siamo qui per rispondere ai bisogni ricordo a tutti che la registrazione sarà presente sul sito e saranno presenti anche le slide quelle slide contengono un sacco di informazioni che possono essere utili e lo ricordo anche agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che sono collegati perché il Dottor Ampolini ha citato l'alternanza scuola lavoro il Ministero ha cambiato questo nome adesso la chiama PCTO con questo acronimo assolutamente allucinante però l'idea è è vero si può fare alternanza scuola lavoro chiamiamola ancora così nell'ambito del terzo settore e secondo me è un'esperienza che almeno una volta nella vita vale la pena fare proprio per conciliarsi con il proprio essere con il proprio essere degli uomini e delle donne di questo mondo questo è il mio pensiero la ringrazio Dottor Ampolini veramente di cuore chiudo questa prima sessione che ha inquadrato il problema con entusiasmo e sottolineando alcuni elementi e apro la seconda sessione dove almeno all'inizio gioco abbastanza facile nel senso che la seconda sessione è dedicata a quello che l'Università degli Studi dell'Insubria fa nell'ambito del terzo settore collabora a fare nell'ambito del terzo settore o ha dato la nel secondo caso nella seconda presentazione quella che sarà dedicata all'Istituto OICOS ma noi apriamo con un nostro fiore all'occhiello il Master in Promotori del Dono di cui sono particolarmente orgogliosa come Università degli Studi dell'Insubria e anche come Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e quindi passo la parola al Professor Giuseppe Porro Direttore del Master al Dottor Bernardino Casadei Coordinatore del Master e a questa fantastica Dottoressa Barbara Yerman che vi racconterà un'esperienza meravigliosa a mio personale parere meravigliosa prego grazie grazie Michela grazie anche ai nostri due ospiti Bernardino e Barbara io sono Giuseppe Porro sono come diceva Michela Prest il Direttore delle Attività Didattiche del Master con me sono Bernardino Casadei che è il coordinatore del Master dal suo sorgere e Barbara Yerman come è stato anticipato una delle studentesse più brillanti del Master è stata una delle studentesse più brillanti del Master oggi felice e attiva operatrice nel terzo settore poi ci racconterà entrambi hanno qualcosa di interessante da raccontarci il Master per promotori del dono come diceva la professoressa Prest è un'iniziativa nata in partnership da Università dell'Insubria e da Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e giunta ormai alle soglie della sua quinta edizione e ha lo scopo di formare figure professionali con contenuto specifico orientate al terzo settore tuttavia proprio per cogliere per dar corpo ad alcune delle sollecitazioni che sono state proposte negli interventi precedenti prima di parlare del Master della sua organizzazione del suo contenuto vorrei che tanto Bernardino quanto Barbara raccontassero qualcosa di sé della loro attività professionale soprattutto per dar conto del perché del come mai può venire in mente a qualcuno di fare del dono dell'attività del dono della cultura del dono un'attività professionale un mestiere se me lo fate dire male perché suona strano in un mondo in cui l'idea è penso a un mestiere per portare a casa soldi penso a un mestiere per portare a casa un beneficio per me può suonare strano che si pensi di formare persone per esercitare una professione per fare un mestiere che fa del bene che produce il beneficio forse a se stessi ma sicuramente anche ad altri Bernardino buongiorno grazie per l'invito è stato detto che il terzo settore sta crescendo ma per capire perché sta crescendo bisogna guardare le motivazioni che sono dietro ora la nostra società ha sempre più esigenze di rispondere a bisogni che chiameremmo bisogni sociali culturali ambientali formativi assistenziali e vi dicendo ora cosa sono questi bisogni sociali non sono bisogni universali a cui lo Stato è chiamato la risposta la pulizia dell'aria la sicurezza la giustizia per cui bisogni a cui la risposta è uguale per tutti in cui lo Stato può svolgere perfettamente la sua missione non sono neanche bisogni puramente privati questo maglione mentre lo porto io non lo può portare nessun altro questi bisogni queste risposte sono risposte che da un lato cercano di soddisfare un'esigenza specifica quindi difficilmente gestibile dal diritto amministrativo perché si entra chiaramente nell'arbitro ma nel contempo che genera quelle che gli economisti chiamano esternalità positive c'è il fatto che mentre io faccio questo servizio mentre io mi occupo dei bambini nel doposcuola questo mi occuparmi dei bambini avrà un impatto anche su altri soggetti i quali però non pagano il beneficio e questo crea dei problemi al mercato e quindi fa sì che gli enti profit facciano fatica a sfruttare al massimo questa opportunità gli enti al settore sono i soggetti più adatti a sviluppare a dare una risposta a queste esigenze che sono in fortissima crescita ma perché siano in grado di dare queste risposte devono ripensarsi i modelli di business che hanno dominato nei decenni passati erano fondati o sul puro volontariato ma sappiamo che come diceva Ampolini adesso c'è sempre più burocrazia a gestire i volontari e in più il volontario lo fa sempre più per vivere un'esperienza gratificante e qualificante per sé e perché possa viverlo quello che ci sia un'infrastruttura che gli permetta di viverlo e quindi dei costi che esistono anche il modello che ha dominato negli ultimi due decenni per cui l'entra del settore erogava servizi per conto terzo e quel terzo era la pubblica amministrazione che pagava abbiamo visto che non sta funzionando il fatto che l'Italia nel bilancio pubblico hanno avuto poi dei difetti devastanti ma poi non sta funzionando insieme e neppure l'ultimo tentativo quello di mettersi in competizione col profit sta avendo dei risultati proprio perfetti se uno considera che l'elemento qualificante il fattore di forza è il fatto che l'entra non profit paga di meno i suoi collaboratori chiaramente non è un gran fare e dire che io posso competa semplicemente perché pago di meno chi lavora con me a questo punto si pone l'esigenza per gli enti non profit di trovare una leva che permetta loro di far pagare quelle esternalità positive e di far pagare quei benefici alla comunità di cui altri soggetti ricevono e che oggi ricevono gratuitamente ricevendole gratuitamente non mettono le risorse necessarie per erogare questo servizio e alla fine il servizio viene generato di meno di quello che sarebbe l'ottimo della comunità se le informazioni fossero perfette e una delle leve più efficaci per ottenere questo risultato è il dono perché il dono è efficace innanzitutto è molto efficiente un investimento in dono può dare un risultato del 200 300 400 500 per cento non ci sono tanti investimenti che generano questi ritorni è anche qualcosa di qualificante perché solo gli enti del settore possono mobilitare donazioni molto più difficile per gli enti pubblici praticamente impossibile per le imprese private e quindi è un fattore distintivo un fattore qualificativo è molto economico perché se io dovessi vendere quel servizio a una persona mettiamo che il servizio costa 100 ci va lì da sopra per cui lui deve pagare 122 su quel 122 oltre a perderci l'IVA io potrei anche doverci pagare lì da sopra per le tasse che le tasse commentano un po' se trasformo questa entrata in donazione il donante lo può dedurre o detrarre e quindi in realtà pagherà da 55 a 70 tra 55 e 122 c'è una bella differenza e quindi è molto molto economico da un certo punto di vista ma è anche efficace su un altro aspetto perché in qualche modo spiazza il freerider chi è il freerider il freerider è colui che approfitta dei servizi senza pagare e naturalmente se quando riusciamo a ottenere un servizio senza pagare ci sentiamo furbi e questo è un aspetto positivo e quindi uno è contento ma nel dono si rovescia la situazione perché il servizio ce l'hai già credito io ti offro la possibilità di donare ma non sei chiaramente obbligato e quindi se non la fai sei sprono tendenzialmente poi ci sono alcuni che gli va bene anche essere stronzi ma mentre tutti noi amiamo essere furbi non tutti noi amiamo essere stronzi e quindi attraverso questo modo noi riusciamo è uno strumento che permette di mobilitare risorse non in astra ma ma realmente in concreto e lascerei quindi la parola a Barbara per raccontare un po' la sua esperienza e mostrare come il dono effettivamente può generare risorse anche economiche per lei grazie Barbara perché lavorare nel terzo settore buongiorno a tutti intanto sono felice di essere qui con voi e potervi raccontare la mia esperienza nel settore diciamo del volontariato e nel terzo settore mi piacerebbe un attimo portare l'attenzione a come il dono può diventare appunto l'opportunità di lavoro come è successo a me io per oltre 10 anni sono stata volontaria di un sorriso in più il sorriso in più è una piccola onlus di guanzate quindi del nostro territorio che si occupa degli anziani si prende cura degli anziani quindi io anche come volontaria la mia attività era quella di affiancare anziani soli in casa di riposo all'omazzo e a domicilio a guanzate poi diciamo a un certo punto ho interrotto questa mia attività di volontariato e ne ho parecchio sofferto però ho dovuto diciamo sospendere quindi quando Marcella la referente della onlus mi ha chiamato per propormi un percorso formativo un tirocinio e un anno di collaborazione con loro diciamo che è stata l'occasione giusta per ritornare nel settore quindi ho sentito proprio di lanciarmi questo è successo quattro anni fa oggi lavoro per un sorriso in più vengo retribuita per occuparmi di comunicazione raccolta fondi e promozione della cultura del dono diciamo che la nostra onlus ha avuto una trasformazione si è proprio aperta come un fiore crea occasioni affinché tutte le persone che si vogliono diciamo mettere in gioco a partecipare possano vivere la gioia del dono attraverso la nostra associazione e oggi la nostra onlus è anche un'interessante realtà lavorativa che offre stimolanti collaborazioni e percorsi di tirocinio quindi noi ci stiamo grazie io vorrei cogliere uno dei suggerimenti che vengono dall'intervento precedente di Bernardino Bernardino ci ha detto il lavoro nel terzo settore una cosa di questo tipo genera una gratificazione per sé vuol dire che questo tipo di professioni hanno delle caratteristiche probabilmente peculiari che vorrei approfondire in primo luogo la percezione che lavorare in questo tipo di imprese per svolgere questo tipo di attività che hanno la cultura del dono della condivisione alla propria radice in primo luogo fa cogliere meglio di altri contesti probabilmente il senso ultimo del proprio agire è quello che quelli che parlano bene direbbero agire in maniera teleologicamente ordinata cioè orientata all'obiettivo e percepire qual è l'obiettivo e che lo si sta perseguendo hai qualcosa da dirci Bernardino? è chiaro uno non vive per mangiare ha bisogno di mangiare e quindi è necessario che il lavoro generi un reddito se no non si romanti ma è ancora più importante che generi un senso allora io quando ero un bambino volevo cambiare il mondo e sono rimasto costante in questo obiettivo tornare anche perché per usare un'affermazione di papini e pressolini quest'Italia non mi piace se quest'Italia non mi piace non si può tornare indietro la rivoluzione necessariamente tradisce se stessa la riforma se ne parla sempre ma vediamo che non funzionano quindi che faccio se voglio cambiare il mondo ho bisogno di una leva per sollevarla il principio dell'archimedia ci dice che la leva si deve stare fuori dal mondo se no non riesco Einstein diceva non si può risolvere un problema partendo dai fattori che l'hanno generato se io devo andare oltre la modernità devo trovare qualcosa reale esistente che però la modernità non è stato in grado di riconoscere mi ha negato financo l'esistenza e questo qualcosa è il dono grazie al dono io posso pensare illudermi se volete di lavorare per creare un mondo diverso per creare un mondo che dia senso che dia speranza un mondo più umano e effettivamente tutto il lavoro che ho fatto dal master alle fondazioni mi danno la speranza di aver messo le basi per una prospettiva futura ora Barbara sicuramente è molto meno megalomani di me e quindi ha magari obiettivi diversi più umani più seri più realizzati però penso che anche per lei però è una cosa personale professionale molto interessante da raccontare a questo proposito prego Barbara infatti noi vediamo tutti i giorni che le persone hanno proprio voglia di donare che quello che cercano è l'occasione giusta quindi mi piacerebbe raccontarvi del nostro progetto nipoti di babbo natale che è stato travolgente perché è incredibile veramente quello che le persone hanno generato con questa occasione che abbiamo messo diciamo a disposizione noi che è un semplice progetto molto trasparente pulito praticamente noi mettiamo se questo progetto mette a disposizione delle persone la piattaforma nipoti di babbo natale punto it attraverso la quale chiunque può esaudire direttamente il desiderio di natale di un anziano che vive in casa di riposo i numeri della scorsa ultima edizione sono incredibili cioè voi pensate che in un solo mese quasi 6.000 persone hanno deciso di esaudire di esaudire il desiderio di un anziano cioè è tantissimo è una risposta incredibile hanno partecipato 228 case di riposo in tutta Italia e anche come donazioni sono state veramente tantissime 650 persone hanno deciso di fare una donazione a sostegno di questo progetto abbiamo raccolto in questo modo 20.000 euro e altri 20.000 sono arrivati da aziende la cosa sorprendente è che non abbiamo mai chiesto una donazione quindi noi abbiamo solo messo a disposizione tutti gli strumenti affinché questa potesse realizzarsi quindi curando la comunicazione quindi tutto è chiaro a chi si avvicina diciamo al progetto e soprattutto la relazione con chiunque ci contattasse noi abbiamo sempre risposto a ogni messaggio anche sui social quindi non vi faccio insomma capire anche la mole di lavoro perché su Instagram abbiamo oltre 22.000 follower e su Facebook 12.000 e quindi a ogni condivisione a ogni commento noi abbiamo sempre dato risposta e questo comunque mi fa capire che come promotrice del dono veramente riesco non solo a rendere diciamo felici i pochi anziani che potevo raggiungere come volontaria ma migliaia di anziani volontari donatori amici della ONLUS veramente grande questa cosa c'è un aspetto di quello che diceva Barbara qualche secondo fa che appena è il caso di approfondire pertanto mi sembra autoevidente questo tipo di attività mobilita anche quella che Max Weber così il professor Citroni è contento avrebbe chiamato la dimensione emotiva affettiva della delle persone tanto di chi lavora in queste in queste imprese in queste attività quanto di chi ne è il beneficiario diretto o indiretto volete spendere una parola per chiarire questo questo aspetto e soprattutto per chiarire se è possibile che non stiamo parlando di una questione sentimentale ma di della risposta a un bisogno reale degli individui quello che sia coinvolta anche la loro sfera emotiva e affettiva Bernadino allora bisogna mangiare bisogna avere un un obiettivo ma bisogna anche divertirsi il lavoro deve essere piacere scalare una montagna è faticoso ma alla fine sei felice ora la felicità il piacere oggi sempre di più è collegato alle relazioni all'aver e fare felice una persona è una godura terrificante quando tu fai felice qualcuno godi te è un piacere e promuovere il dono significa offrire l'opportunità alle altre persone di affermare ciò che è di bello in loro di affermare la loro umanità di affermare la loro bellezza di essere felici non c'è donatore che non vi dica chi ha ricevuto più di quello che ha dato allora se il mio lavoro è rendere felice gli altri difficilmente il mio lavoro non renderà felice me è per questo che diventa un'opportunità interessante e sicuramente Barbara potrà raccontare la sua esperienza ma diciamo che aggiungerei questa cosa che è altrettanto straordinaria come dici tu cioè confermo che tutti ci ringraziano è incredibile certo l'anziano che comunque si sente amato coinvolto riceve riceve molto ma i nipoti di babbo natale che sono le persone che poi esaudiscono concretamente i desideri c'è loro ci hanno fatto sentire tantissimo la loro gioia e ci ringraziavano perché potevano attraverso il progetto vivere un'emozione autentica tantissimi ci dicevano che questo era il senso del Natale quindi il loro dono cioè questa occasione li ha semplicemente reso possibile vivere cioè realizzare un desiderio che loro avevano che era quello di donare ma anche i donatori stessi cioè quelli che hanno diciamo dato un contributo economico ma dai 5 ai 200 euro cioè qualsiasi cosa e soprattutto le aziende che le aziende tantissimo cercano il modo di essere attive nel non profit cioè ci ringraziavano perché attraverso questa opportunità avevano la possibilità di contribuire a tanta gioia e quindi essere coinvolti e quello che ho sentito con questo progetto è che è diventato veramente un movimento nel senso che le persone l'hanno riempito è come se noi avessimo messo a disposizione un contenitore che non sapevamo come si sarebbe diciamo poi comportata tutta questa situazione invece le persone l'hanno proprio riempito quindi io direi che anche per me per noi della ONLUS è proprio una e questo ci permette di vivere veramente tantissime emozioni in prima persona infatti ovviamente il periodo natalizio è travolgente e quello che dicevi tu Bernardino io lo confermo che grazie a questo lavoro io faccio della mia passione il mio lavoro vabbè grazie scusate la ripetizione però per dire che veramente il mio lavoro è anche la mia passione quindi è bellissimo vedere ogni giorno come dicevi tu la goduria di far felici le persone e non solo appunto la persona della quale ti occupi ma tutte le persone che si avvicinano e cercano uno spazio per per rendere felice e per aiutare gli altri ma parliamo un attimo del master perché stiamo andando lunghi già siamo sotto l'occhio vigile della moderatrice della prest parliamo quindi un attimo del master vorrei mostrarvi un brevissimo audiovisivo che racconta dei commenti delle esperienze dei docenti del master prima di chiedere a Bernardino e a Barbara di illustrarci qualcosa sui contenuti del corso prego facciamo partire a chiunque sono un consulente di Faresi insegno all'università degli studi dell'insubria nel corso di laurea di giurisprudenza sono un imprenditore del mondo digitale nella vita faccio il teatrante nel master per promotori del dono insegno diritto privato io nel master insegno digital marketing e social network mappature strategiche comunicazione interpersonale non scritta il master è un'opportunità una via di crescita è sicuramente una prospettiva formidabile per tutti è sognare così forte che i suoi sogni diventano realtà la cosa caratterizzante è che ha un taglio un po' più ampio un po' più umanista quindi è molto trasversale il master da tantissimo ai corsisti mi da tantissimo anche a noi docenti è letteralmente il progetto di un'altra realtà una soddisfazione qualche domanda che mi ha messo in difficoltà quando gli ex studenti ti comunicano i loro successi a me piace tantissimo quando finisco la mia lezione di solito capita sempre che sono bombardata di mail vedere quanto si divertivano quelli che facevano il master nel mio corso ma in generale c'è un clima meraviglioso rieccoci qua Bernardino ti chiederei nei 5 minuti residuali che ci sono rimasti di dirci qualcosa sulla sull'organizzazione sui contenuti su come è stato concepito il corso è un master di primo livello il master universitario di primo livello perché all'interno del corso sono anche state sperimentate una serie di organizzazioni abbastanza originali sia della diattica sia dei tirocini prego allora il master più che formare dei tecnici è un percorso di leadership è un percorso che offre ai partecipanti una visione l'obiettivo del master è cambiare la vita cambiare la vita della società dell'ente e dello studente e da quello che mi dicono si riesce abbastanza spesso proprio perché offre chiave interpretative del reale assolutamente originale nel contempo però è anche un percorso operativo nel senso che gli studenti durante il master devono gestire in prima persona una campagna di raccolta fondi vera non astratta vera devono fare una campagna natalizia di raccolta fondi devono preparare un piano operativo per il loro ente per l'anno successivo ed è anche un momento di riflessione scientifica nel senso che il dono sta diventando un tema di grande interesse per la scienza il numero degli articoli pubblicato su riviste scientifiche sta crescendo in modo esponenziale e attraverso questo master gli studenti vengono posti veramente nei punti più avanzati e a volte queste ricerche danno dei risultati controintuitivi su quali sono le dinamiche del dono a punto di vista economico sociale e vi dicendo quindi è un master che è pensato per permettere alle persone veramente di creare un mondo nuovo è il mio obiettivo barbara una battuta sulla tua esperienza come studentessa del master e come vittima di Bernardino io adoro Bernardino questo è il primo punto che voglio apportare a tutti il master diciamo che è proprio un viaggio è come se avessi riscoperto qualcosa che già era dentro di me quindi mi ha proprio attivato e oltre appunto a aver mi permesso di guardare il dono da diversi punti di vista cogerne nuove sfumature ma soprattutto appunto permette di ribaltare la concezione delle onlus cioè che le onlus non sono diciamo esclusivamente dedicata al beneficiario quindi nel nostro caso l'anziano ma che paradossalmente l'anziano in quest'ottica offre a noi a tutti i donatori a tutti i volontari a tutte le persone che vogliono vivere la gioia del dono di poterlo fare quindi questa è stata sicuramente la rivoluzione ecco che quindi ci ha obbligato e permesso di guardare ogni aspetto di gestire ogni azione in un modo completamente nuovo quindi ovviamente il master ha anche mette a disposizione tutti gli strumenti per mettere in pratica la promozione del dono quindi sono diventate esperte di comunicazione e raccolta fondi oggi non farei nessun altro lavoro che non questo quindi per me è stata la scelta giusta grazie a Bernardino e Barbara noi vi lasciamo con l'ennesimo filmato che questa volta contiene le testimonianze degli studenti del master come Barbara vi do soltanto questa indicazione al termine del filmato vedrete l'indicazione del sito del master che è master.perildono.it la quinta edizione del master parte il mese prossimo le iscrizioni sono già chiuse ma invito tutte le persone interessate al master a iscriversi al sito che vedete indicato ripeto master.perildono.it a rimanere informati su quello che accade nel master durante l'anno e a prendere contatto con Fondazione Comasca che provvede anche in certa misura a accostare gli studenti agli enti no profit che sono interessati a ospitare il promotore del dono e a sviluppare queste attività provvede anche alla copertura dei costi di iscrizione al master in molti casi e quindi può eppine contattare con Fondazione Comasca per tempo per manifestare il proprio interesse grazie possiamo far partire il filmato in questo momento sto facendo il master per promotori del dono per essere promotori non ci si improvvisa ci vuole cuore e metodo e il master rinforza entrambi è stato gestito benissimo attraverso videoconferenze con professionisti molto qualificati tutta la parte del dono visto da un punto di vista filosofico è stata molto interessante perché era una prospettiva mai indagata ovvero la gioia di dare alle persone una prospettiva diversa sulle cose aprirsi al mondo e fare conoscersi meglio è un cammino che richiede anche un grosso cambiamento culturale si va oltre la raccolta di fondi fino a se stessa sì sì che ha cambiato mi ha cambiato il master è un motivo di arricchimento non solo a livello professionale ma anche proprio esperienziale e della della persona che lo frequenta mi ha aperto delle prospettive nuove mi ha un po' messo su un binario nuovo diciamo che mi ha migliorata mi ha reso più sensibile più attenta e più consapevole tutta questa bontà amore e voglia di fare di darsi non pensavo che fosse possibile proprio grazie a questo confronto che si può avere con tutti le altre persone gli altri enti per me è stato un po' un nuovo risveglio ci cambia la prospettiva di vita ragazzi che dire grazie grazie allora io lavoro con questi signori ormai da parecchi anni e sono usciti tutti gli elementi che sono state la base di questo lavoro insieme anch'io ho fatto il mio mestiere perché voglio fare voglio cambiare volevo cambiare il mondo e voglio tuttora cambiare il mondo io sono uno scienziato però vi dico che da quando lavoro con questi signori le parole che ha detto Bernardino generare un senso ecco vi cambia la prospettiva vi costringe a guardare noi scienziati siamo abituati a guardare i problemi da tanti punti di vista ecco qua vi costringe a guardare dentro voi stessi da un altro punto di vista e a quel punto siete in grado di guardare anche gli altri da un altro punto di vista io penso e l'altra cosa che mi è piaciuta che mi piace tantissimo è che ci vuole competenza non ci si improvvisa è un mestiere è un mestiere che dà gioia che ti cambia la vita che genera senso che ti fa divertire ma è un mestiere quindi bisogna sviluppare competenze e il master in promotori del dono ha proprio questo alla base quello di farvi sviluppare competenze in quest'ambito molto specifico e al contempo molto aperto grazie ragazzi è stato veramente fantastico come sempre sapete che io sono profondamente innamorata di voi quindi di Bernardino in particolare con tutte le sue buttate è stato meraviglioso e saltiamo dal master in promotori del dono a un mondo che in realtà è molto affine ma in un campo specifico completamente diverso chiamatelo come volete che è il mondo della natura e dell'ambiente cioè un mondo a cui siamo tutti in questo momento molto attenti quindi io do la parola alla dottoressa Rossella Rossi che è il presidente dell'istituto Oikos Ocus prego dottoressa Rossi beh buongiorno innanzitutto beh grazie per avermi invitato è un onore essere con voi e sono molto colpita e intrigata da tutti gli stimoli che mi sono arrivati previsti e imprevisti quindi ho sentito tante cose nuove per me e sono quasi adesso un po' intimorita da farvi la mia presentazione che è molto pratica però dietro ci sono ci sono tanti pensieri allora benissimo allora intanto io racconto di una storia diciamo di matrimonio tra istituto Oikos e l'università dell'Insubria perché istituto Oikos è nata nel 1996 abbiamo compiuto stiamo compiendo 25 anni un po' come spin off un termine che allora non c'era di quella che era un diciamo una sezione dell'università di Milano che si occupava di fauna selvatica grande fauna selvatica che poi divenne università di Milano sede di Varese e poi divenne nel suo complesso università dell'Insubria e allora per restare in tema eravamo un gruppo di appassionati naturalisti che proprio il cuore di noi batteva per la tutela dell'ambiente della fauna iniziavano ad esserci preoccupazioni per l'ambiente e un po' da sognatori insieme diciamo Oikos appena nata insieme diciamo all'università dell'Insubria allora di Milano scrivemo un progetto che presentammo l'Unione Europea che affrontava il tema dell'analisi dei movimenti migratori della fauna selvatica tra un parco nazionale in Tanzania e le zone intorno che erano abitate dai Masai il progetto contro tutte le previsioni fu approvato grazie devo dire molto al prestigio dell'Università di Milano di questo nucleo di ricercatori di allora e partì partì però l'università diceva ma noi come facciamo a comprare una jeep in Tanzania a assumere dei biologi in Tanzania e così nacque Oikos e furono tutti molto felici perché eravamo ripeto dei naturalistici chi più biologo io ero allora sono tra i fondatori sono la mamma dell'organizzazione la nonna oramai dell'organizzazione e insieme ci demmo allora una visione e di cui sono ancora molto felice perché è più che mai attuale e la nostra idea era quella di dire va bene noi amiamo l'ecologia ma vogliamo che nella nostra visione economia ecologia ed equità si parlino si integrino e pensino ai bisogni dell'uomo non solo a quelli dell'ambiente insomma non eravamo animalisti per intenderci l'uomo i suoi bisogni comunque venivano insieme a quelli dell'ambiente il come farlo appunto eravamo tutti di formazione scientifica laureati chi da più chi da meno molto legati e quindi c'era chiaro un punto il lavoro si fa con competenza con fiducia nella scienza con un'attenzione all'innovazione e poi alla parola che è tanto ricorsa stamattina alla partecipazione e così è nato diciamo il primo progetto Università dell'Insubria OICOS nel 1996 un progetto che poi durò cinque anni fu rinnovato fu finanziato prima dall'Unione Europea e poi addirittura dall'USAID l'agenzia di cooperazione americana e lavorare sul campo allora e c'erano allora tanti studenti neolaureati una persona che stava facendo un dottorato di ricerca quindi fu un momento in cui i sogni dei fondatori e i sogni di studenti o neolaureati lanciati sul campo con una dose di incoscienza che poi è andata diminuendo nel tempo perché siamo diventati anche noi più consapevoli più attenti alla burocrazia mi è piaciuto molto quel discorso di dire ma come si fa a conciliare la libertà l'entusiasmo con il rigore e anche la burocrazia necessaria e allora ci rendemmo conto toccammo col mano che diciamo la tutela dell'ambiente è fondamentale per il benessere prima di tutto per le comunità locali che sull'ambiente sulle risorse naturali sulla fertilità dei suoli costruiscono il loro futuro da allora sono passati 25 anni adesso siamo una realtà grande media nel mondo delle ONG di cooperazione siamo appunto una ONLUS in attesa di iscriverci al registro unico del terzo settore con speranza che ad aprile questa è una buona notizia possa finalmente uscire siamo riconosciute dal Ministero Affari Esteri per le nostre attività di cooperazione abbiamo uno staff variabile un pochino anno per anno ma intorno alle 150 persone di cui 45 operano in Italia 105 all'estero quando dico staff dico persone che ricevono uno stipendio pagate per intendersi a questo si associa poi un buon numero di volontari che per noi noi però i volontari sono competenti nel settore ambientale ecco quindi quindi sono studenti neolaureati tesi di master di dottorato tirocini questi sono i nostri volontari che possono lavorare diciamo con chi si occupa di queste tematiche in Italia e anche all'estero oggi diciamo siamo nati con questo partenariato fortissimo con l'Università dell'Insubria oggi naturalmente abbiamo anche altri partenariati con altre università in Italia e all'estero abbiamo quattro uffici permanenti in Tanzania in Myanmar in Mozambico in Libano e sette diciamo non uffici regionali ma antenne regionali quando facciamo diciamo iniziative di portata nazionale sotto vedete diciamo i donatori principali i nostri punti di forza appunto avere anche all'interno proprio di OICO tra le persone che lavorano però i esperti ambientali gente a cui il cuore si accende quando si parla di ambiente che però sanno che quando si va ad operare la coscienza la fatica di sapere di essere aggiornati di studiare è fondamentale quello che esce dalla ricerca è fondamentale non basta è necessario ma non basta lo slancio l'entusiasmo non basta e la volontà di fare del bene ci vogliono tutte e due le componenti un approccio integrato e multidisciplinare ne avete parlato anche di questo ci crediamo fin dall'inizio il occuparsi di temi ambientali vuol dire affrontare problematiche complesse anche quelle non le risolve il naturalista da solo ci vuole il socio-economo ci vuole l'economista ci vuole se c'è il botanico ci vuole il forestale l'esperto di sistemi informativi le alleanze il lavorare in rete è una capacità di dialogo si dice sempre oramai per fare un progetto di successo ci vuole la componente scientifica il soggetto del terzo settore ci vogliono le istituzioni e oggi ci vogliono anche le aziende quindi per avere successo riuscire a dialogare fare gruppo è fondamentale e poi il famoso il respiro lungo cioè le iniziative è bello se riescono pur essendo concepite nell'arco di progetti che devono avere dei loro fondi eccetera però che possono navigare a lungo quindi oggi vi dicevo siamo questa è una mappa che descrive i nostri interventi e abbiamo lavorato in 17 paesi e oggi appunto i puntini rossi sono i paesi che siamo presenti allora con l'università dell'insubria siamo partiti naturalmente mano nella mano con quello che oggi è il corso di laurea in scienze dell'ambiente e della natura laurea triennale e magistrale in scienze ambientali insieme lavoriamo ancora tantissimo su tutte le componenti che riguardano la biodiversità l'agrobiodiversità la tutela gestione degli abiti ma tanto lavoro è stato fatto anche con gli ingegneri con gli ingegneri ambientali sui temi soprattutto delle energie rinnovabili e nello strutturarci anche noi diciamo la biodiversità era il centro ma io mi ricordo quando siamo nati che dicevamo biodiversità ma chi capisce cosa vuol dire quindi cercavamo di usare poco questo termine oggi si parla di fare di metterlo nella Costituzione e sarà una parola che con cui conviveremo sempre di più quindi noi abbiamo declinato la biodiversità in senso stretto quindi che sono lavori a tutela delle specie e degli ambienti con quello che sono le comunità sostenibili cioè l'ambiente come uno strumento di economia locale e di inclusione sociale con i temi enormi dei cambiamenti climatici ma anche sul tema dell'acqua quindi le competenze appunto rivolgendoci ai giovani c'è tanto 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 bisogno dei giovani c'è bisogno di giovani aperti pronti a partire pronti a lanciarsi esperti di fauna ma esperti di sistemi informativi esperti di tecnologie nel campo idrico ma anche nel campo delle energie delle energie rinnovabili dei pannelli solari degli impianti di biogas lavoriamo molto adesso anche nella tutela delle risorse marine della pesca e poi c'è il grande tema formazione educazione sensibilizzazione quindi certo il tema del fundraising è un tema fondamentale noi abbiamo bisogno di imparare di più a fare fundraising soprattutto dai privati perché siamo un po' nati diciamo molto capaci di acquisire risorse dalle istituzioni pubbliche dei grandi donatori internazionali o dal ministero degli affari esteri e dalla fondazione Cariplo ma non abbiamo mai sviluppato adeguatamente la capacità di intercettare la popolazione in genere quindi chi ha quell'esperienza di formazione di educazione e poi i tecnici diciamo dell'ambiente quelli tanti tanti studenti hanno lavorato con noi quindi c'è spazio c'è spazio per energia io penso che davvero i giovani si entusiasmano su questo noi cerchiamo di garantire ai giovani una supervisione perché i giovani hanno bisogno di avere qualcuno che li aiuta li indirizza e li incoraggia anche adesso rapidamente passo in rassegno i nostri quattro settori la biodiversità sapete perché è importante il 75% delle terre emerse sono state pesantemente maneggiate dalla mano dell'uomo il 66% degli oceani e pensate alle zone umide che sono fondamentali per l'equilibrio idrico l'85% è stato distrutto e questo con la grande accelerazione cosiddetta grande accelerazione che è partita dopo gli anni 50 noi diciamo facciamo sempre riferimento ai sustainable development goals del vita sott'acqua e vita sulla terra io penso che tutti sappiano di cosa si tratta e adesso vi cito diciamo nel settore della biodiversità due progetti tra i tantissimi fatti insieme con l'Insubria questo è legato alle nostre attività in Myanmar in Birmania e dove siamo concentrati in due zone costiere una è Rakhine al confine col Bangladesh e un'altra è il parco marino di Lampi sono due posti bellissimi infatti Oikos è sempre criticata tra virgolette perché lavora in posti bellissimi è vero però questi posti remoti sono posti anche dove la povertà delle popolazioni locali davvero sono abbandonate a se stessi in queste foreste del Rakhine noi abbiamo lavorato insieme all'Università dell'Insubria tanto per diciamo fare dei piani di gestione delle foreste che potessero le comunità locali applicare e applicando questi piani acquisiscono dallo Stato il diritto di fare proprie le foreste e però abbiamo anche lavorato sulle specie sulla biodiversità delle foreste in particolare su questo meraviglioso orso che si chiama il Sun Bear orso dal collare che è una specie molto molto minacciata e nel Parco Merino di Lampia anche lì abbiamo lavorato tantissimo sempre con l'Università dell'Insubria sulla biodiversità ma diciamo restando nel nostro territorio uno degli impegni importanti degli ultimi anni è stato quello di lavorare sulla connettività ecologica nel complesso dei fiumi Ticino e Valle dell'Olona un'iniziativa finanziata dalla Fondazione Cariclo dove sempre con l'Insubria abbiamo fatto tanto lavoro di raccolta dati sulla biodiversità sulle specie a rischio negli ambienti diciamo umidi nel fiumi Ticino e l'Oona e anche proprio il ripristino il ripristino di ambienti degradati clima ed energia beh insomma i problemi li conoscete tutti noi lavoriamo sia sull'adattamento che diciamo le iniziative che servono a ridurre la vulnerabilità delle persone che vivono in ambienti particolarmente esposti ai cambiamenti climatici e la mitigazione che è la riduzione delle emissioni come sempre come spesso purtroppo nei paesi poveri nelle savane africane dove noi lavoriamo tanto e nelle zone costiere nelle zone di mangrovie il diciamo il pericolo di essere esposti a eventi climatici estremi è particolarmente alto e addirittura è stata fatta una diciamo una valutazione che fino a un milione di persone sono state vittime negli ultimi dieci anni di questi eventi climatici estremi e di questi più del 95% nei paesi del sud del mondo allora sempre con l'università dell'insubria con gli ingegneri in questo caso abbiamo lavorato su un grosso progetto che chiamiamo Eco Boma siamo nelle savane della Tanzania che il cui obiettivo era portiamo accesso all'energia nelle zone remote dove non c'è luce dove le giornate comunque sono brevi dove i bambini comunque al buio non riescono né a leggere né a studiare e abbiamo diciamo portato energia sia nei centri di salute che anche piccoli sistemi diciamo di pannelli solari nelle capanne masai è stata un'esperienza molto bella e molto ricca purtroppo non posso soffermarmi comunità sostenibili comunità sostenibili dicevo è tutto quello che riguarda come migliorare la produzione agricola senza compromettere il suolo in maniera sostenibile di lungo termine perché sappiamo che ancora due miliardi di persone non hanno regolare accesso a un cibo non solo esistente ma deve essere anche sano nutriente e sufficiente e poi c'è tutto il problema del lavoro i lavori diciamo cosiddetti fragili sono tantissimi si parla di 1,4 miliardi di persone e la domanda era possono dei lavori legati alla tutela dell'ambiente fornire opportunità di impiego per persone che vivono in zone rurali fragili e povere e anche qui gli esempi sono tanti ve ne cito uno perché diciamo è quello in corso noi lavoriamo in questa riserva della biosfera dello Shufi in Libano dietro Beirut e uno dice ma ha senso in quel contesto lavorare sull'ambiente io ero così preoccupata all'inizio in realtà ho capito che ha un enorme valore perché in quelle situazioni di adesso poi in Libano è particolarmente c'è default quindi è una situazione economica drammatica ma avere il territorio degradato fino all'inverosimile in Libano e avere un'area di sfogo protetta dove le famiglie possono andare ritrovare la fiducia e la connessione con l'ambiente è importante quindi questo progetto ha una grossa componente che serve insieme alle autorità libanesi le autorità del parco come tutto il resto è sempre insieme alle autorità locali e alle associazioni locali si lavora per diciamo conoscere meglio la biodiversità diciamo le specie che vivono nel parco ma anche per rafforzare la produzione agricola locale per valorizzare il commercio di quei prodotti e il turismo ambientale che è una grande risorsa da questo punto di vista e le tradizioni locali in Mozambico devo andare veloce perché mi manca pochi minuti in Mozambico anche lì abbiamo lavorato tantissimo in due settori diciamo uno agricolo dove si cerca è ancora in corso di aiutare le comunità locali lì siamo in zona espostissima ai cambiamenti climatici a coltivare delle specie magari diciamo tradizionali abbandonate per usare le grosse specie di mais soprattutto e di riso che vengono diciamo usate in tutto il mondo ma ci sono delle specie locali molto più resistenti diciamo ritrovarle e promuoverle e anche diciamo sul turismo sostenibile come forma per coniugare il reddito e tutela dell'ambiente l'educazione ambientale nelle scuole altro diciamo settore che a noi coinvolge molto in Italia e nel sud del mondo che abbiamo svolto insieme e oggi si parla sempre di più anche della biodiversità nelle città sta partendo un progetto importante con il comune di Milano su come diciamo riportare la biodiversità faunistica l'ultimo tema è l'acqua e per dirvi come girano le cose in Mozambico abbiamo costruito un meraviglioso centro polifunzionale per la tutela dell'ambiente eccetera è arrivato un ciclone mai registrato in quella zona mai nella storia conosciuta che ha distrutto tutte le capanne della popolazione di circa mille mille e cinquecento persone tra due isole tutte e compreso il nostro centro mai visto mai successo e quindi su questo ci siamo attrezzati per lavorare in emergenza quindi aiutare diciamo la riabilitazione dei pozzi dei ripari e la costruzione degli edifici pubblici il futuro due parole sul futuro adesso avremo di fronte la transizione ecologica e noi dobbiamo pensare che appunto occuparci di ambiente non è come forse pensavamo un sogno un sogno grande ma è qualcosa di molto concreto in questo momento e dobbiamo riuscire a tenere insieme la dimensione ambientale che sono gli stili di vita di produzione e consumo con la dimensione sociale che ci parla di etica della società e la dimensione economica che sono quali modelli di business creeranno valore per le comunità quindi tutti oggi gli indicatori ci mostrano che la biodiversità ha un trend negativo altri indicatori sono in positivo ma questo è in negativo quindi noi vogliamo e desideriamo continuare a collaborare con l'insubria unire le forze per combattere la crisi ambientale sapendo fino in fondo e purtroppo non riesco a parlarne che la battaglia ambientale è una battaglia che prima ancora dell'ambiente riguarda la giustizia sociale l'equità e quindi in ultima analisi la pace grazie a tutti dottoressa Rossi grazie di cuore veramente perché questo tra le altre cose questa sua presentazione è anche un aggancio perfetto con quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa cioè quando uno pensa alle carriere internazionali spesso e volentieri si focalizza su faccio una carriera nell'Unione Europea faccio la carriera diplomatica e in realtà c'è un mondo sotto che è un mondo amplissimo e mi piace molto questa mi è piaciuta molto questa sessione perché abbiamo raccontato elementi che si compenetrano perfettamente lei ha detto noi avremmo bisogno di qualcuno che si occupa di fundraising e che quindi è un esperto in promozione del dono che quindi ha una competenza ambientale ma che ha anche una competenza in più ci ha raccontato progetti che vengono fatti da tutte le parti del mondo potremmo aggiungere a questi progetti ambientali potremmo parlare dei problemi legati all'ambito medico al fatto che il 50% della popolazione mondiale non ha accesso alla radioterapia cioè ci sono mondi da esplorare e secondo me sono mondi che chi inizia un percorso formativo non ha nemmeno in mente ecco l'idea della giornata di oggi è darvi delle pillole in questo senso raccontarvi di possibilità di sbocchi professionali dopo il vostro percorso formativo accanto al vostro percorso formativo ricordo a tutti che tutte le slide quindi tutti i contatti le registrazioni saranno sul sito quindi la dottoressa Rossi e l'istituto Oikos saranno contattabili da chi ha un interesse in questa direzione anche da subito anche dal momento in cui iniziate il percorso formativo per capire come indirizzare il vostro percorso formativo se questo è quello che vorreste fare nella vita ringrazio tutti coloro che hanno parlato tutti quelli che hanno parlato in questa sessione vi ringrazio veramente di cuore vi farei parlare per delle ore perché è stato interessantissimo io personalmente non conoscevo l'istituto Oikos così in profondità e mi è piaciuto tantissimo sono veramente molto 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 affascinata grazie mille e facciamo il salto alla sessione successiva che di nuovo ci lega all'ambito anche all'ambito internazionale e all'ambito degli sbocchi professionali perché parliamo di servizio civile quale migliore occasione del terzo settore per parlare di servizio civile quindi io do la parola al dottor Roberto Andreani della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile universale che ci parla di servizio civile universale dottor Andreani lascio la parola grazie per questa opportunità e visto che abbiamo come interlocutori ragazzi delle scuole medie e superiori probabilmente dell'ultimo anno e anche laureandi e laureati dell'università e voglio iniziare proprio con una piccola sfida purtroppo più di mezzo milione di ragazzi hanno fatto questa esperienza ma ci siamo accorti molto spesso come questi ragazzi durante questa esperienza hanno capito un pochettino in ritardo come uno delle migliaia di progetti di servizio civile poteva essere quell'occasione per poter realizzare il sogno del cassetto che ogni ragazzo ha noi quest'anno abbiamo avuto 3.600 progetti e sicuramente uno di questi progetti poteva veramente realizzare perché un attimino ha visto le idee chiare quello che poteva realizzare nella vita per capire un attimino il servizio cile bisogna capire un attimino anche quali sono le sue origini poi parlerò un attimino su cosa consiste e mi soffermerò un attimino sulla scelta di un progetto di servizio cile che secondo me è la cosa più importante il servizio civile ha la sua origine nel lontano 1972 quando viene istituita e viene riconosciuta la possibilità delle obiezioni di coscienza al servizio militare quindi fino a quel momento i ragazzi erano obbligati a fare il servizio militare dal 1972 ci stava una possibilità alternativa che era quella dell'oriente delle obiezioni di coscienza si va avanti così per 30 anni si arriva nel 2001 dove viene istituito il servizio civile nazionale viene aperto anche alle donne e infine nel 2017 si passa al servizio civile universale universale perché l'idea del legislatore è fare in modo che prima o poi tutti i ragazzi che vogliono fare questa esperienza lo possono fare il bando è appena scaduto quello di quest'anno a fronte di circa 50.000 posti ci sono state più di 125 domande quindi una richiesta tanto importante per i ragazzi purtroppo meno della metà potrà essere accolta ma che cos'è il servizio civile e per dire questo vorrei partire a farvi fare la domanda per secondo i ragazzi del servizio civile ogni anno ad eccezione dell'anno scorso per la pandemia il 2 giugno sfilano ai fori imperiali di fronte al Presidente della Repubblica in occasione della festa della Repubblica e mi domando per quale motivo i ragazzi del servizio civile sfidano in quella data insieme alle forze armate e i corpi civili dello Stato che cosa centrano i ragazzi del servizio civile beh la risposta ve la do io perché è l'impegno che per alcuni mesi i ragazzi dedicano alla difesa non armata e non violenta della patria quindi una difesa che travalica quelli che sono i nostri confini nazionali perché si può difendere legamente la patria cominciando anche a essere dei cittadini consapevoli di quelli che sono i nostri diritti di quelli che sono i nostri doveri proprio offrendoci praticamente come mezzo per migliorare la società non soltanto in Italia ma possiamo anche essere ambasciatori di tanti messaggi di pace di conciliazione anche all'estero e ai ragazzi che vogliono interessarsi di questo del servizio civile vorrei chiedere peccato che il web non ce lo permettero però è una domanda che si dovrebbero porre per quale motivo vuoi conoscere il servizio civile già rispondersi a questa domanda è importante se qualcuno si vuole cimentare dare qualche risposta sulla chat che dopo magari ci potete anche dire quali sono i motivi che spingono i ragazzi anzi spinge il singolo ragazzo a scegli il progetto di servizio civile ma c'è una seconda domanda qual è il dono che il ragazzo vuole fare agli altri nella scelta di un progetto di servizio civile molte volte questa mancanza di consapevolezza fa venire meno questo rapporto di reciprocità cioè i ragazzi devono sapere un attimino se hanno la loro chiave di lettura del servizio conosco tutte le procedure del problem solving sono una persona empatica il mio senso di critico la creatività sono uno che sta a gestire stress perché i ragazzi che scelgono un progetto di servizio civile non sono mai soggetti a sé stanti vengono inseriti in una struttura e lavorano con altre persone per raggiungere degli obiettivi ben precisi che vengono delineati nei progetti del servizio civile ed è talmente importante il servizio civile che ha le sue radici proprio nei principi della nostra Costituzione cioè quindi difesa della patria la solidarietà l'uguaglianza sostanziale il concorre al progresso materiale spirituale e anche la promozione della pace tra i popoli ma chi è che può diventare un volontario del servizio civile? Sicuramente un cittadino italiano un cittadino degli altri paesi europei e anche un cittadino che non fa parte dell'Unione Europea ma che è regolarmente soggiornante in Italia altra condizione non aver riportato particolari condanne penali ce ne sono tanti progetti abbiamo detto quest'anno erano più di 3.600 e hanno vari ambiti diciamo che copre quasi tutto l'universo dei possibili ambiti si va dall'assistenza che è solo il maggior numero di progetti si passa alla protezione civile al patrimonio ambientale e anche alla riqualificazione urbana alla tutela del patrimonio storico artistico e culturale all'educazione dello sport e alla promozione culturale abbiamo progetti anche in agricoltura sociale agricoltura di montagna e alla biodiversità e anche la promozione della cultura degli italiani all'estero e anche alla cooperazione e allo sviluppo quindi gli ambiti sono tanti una cosa però che ci tengo sempre a chiarire è che il ragazzo che fa il servizio civile non è un volontario in senso proprio ma è una scelta volontaria perché tra le tante cose che offre il servizio civile e anche un rimbosto spese che per quanto piccolo non è mai male cioè chi sceglie questa opportunità ogni mese si porta a casa una somma di 439 quasi 440 euro 439,50 che può raggiungere le 830 le 850 euro mensili se il progetto viene fatto all'estero perché se aggiungono alcune indennità in più gli viene dato gli viene riconosciuto il vetto gli viene dato il vetto l'alloggio e anche un doppio biglietto di andate e ritorno per il continente dove ha prestato il suo servizio ma secondo me la cosa veramente importante è l'acquisizione di conoscenze e competenze pratiche che riesce a sviluppare in questo anno è veramente un primo passo che può essere un primo passo che ti introduce nel mondo del lavoro l'anno di servizio civile riconosce anche dei crediti formativi nell'ambito dell'istruzione e anche della formazione professionale e a tal fine dico che molte volte alcune università riconoscono proprio dei crediti ad hoc per alcuni progetti però questo viene specificato nel singolo progetto ad esempio so che alcune università tanto per non fare nomi quella di Padova non lo mette nel progetto però se il progetto di servizio civile è molto affino al piano di studi si può fare una domanda al consiglio universitario che valuta e eventualmente riconosce questi crediti anche se è una cosa che i ragazzi vedono molto lontano l'anno di servizio civile viene riconosciuto anche ai fini pensionistici da un punteggio per i concorsi pubblici perché viene equiparato al periodo come se avesse prestato servizio in una pubblica amministrazione i ragazzi ricevono prima quando iniziano il servizio civile minimo 80 ore di formazione 30 generale 50 specifica quindi non si devono spaventare se pensano di non avere tutte le competenze verranno formati praticamente per raggiungere gli obiettivi del progetto gli viene rilasciato una attestazione da parte del dipartimento dell'anno di servizio che possono inserire nel proprio curriculum vite ma la cosa più importante è il fatto che gli verrà rilasciata alla fine del servizio l'attestazione delle competenze acquisite in modo particolare le famose soft skill quindi ragazzi quando andrete a fare un lavoro a fare un colloquio di lavoro oggi tutte le aziende dalla piccola alla media alla grande durante il colloquio vorrà verificare se voi avete un attimino sviluppato queste competenze considerate che oggi molte quando parli di soft skill sono intanto per spiegarmi meglio valuto la vostra capacità di autocontrollo la vostra capacità di saper gestire un gruppo la vostra capacità di saper dirimere i conflitti la vostra capacità di essere empatici la vostra capacità di influenzare il prossimo come gestire il flusso di informazioni di notizie nell'ambito di rettina produttiva saper gestire il tempo tutte cose che oggi le aziende considerano molto importanti ma cosa bisogna fare per diventare operatori del servizio civile bisogna un attimino aspettare che esce il bando ne esce più di uno comunque il bando quello grosso veramente viene più pubblicizzato anche su spot televisivi è necessario avere lo speed praticamente si fa tutto online ci sta un portale ad hoc ci sta una guida e non è tanto difficile fare la domanda la cosa più difficile è praticamente scegliere il progetto e sul sito dedicato esiste proprio un motore di ricerca che vi aiuta l'impegno che vi si chiede è tra gli 8 e 12 mesi la maggior parte dei progetti sono di 12 mesi e l'impegno è di 25 ore a settimana quindi molte volte queste 25 ore non vi impediscono magari di svolgere anche altri compiti e altre funzioni se avete degli interessi particolari vi voglio soffermare a questo punto in modo particolare anche su quello che interessa molto ai ragazzi il servizio civile all'estero sono affascinati noi ogni tanto abbiamo tra gli 800 e 1000 posti all'estero la maggior parte di queste opportunità sono in Africa America centrale America del sud pochi in Europa pochi in Asia ma come funziona una volta fatta la domanda il ragazzo verrà convocato per un colloquio di selezione quest'anno i colloqui di selezione verranno fatti online e in questo colloquio di selezione oltre alla valutazione dei titoli a cui vengono riconosciuti un punteggio la cosa più importante è la motivazione per quale vi verrà chiesto per quale motivo voi avete scelto quel progetto ed è ancora più importante sui progetti fatti all'estero ci sono vi faccio un esempio ci sono dei progetti che esempio vi parlo dei progetti reali concreti che vengono svolti in Brasile a Rio de Janeiro affascinante una cosa è sicura il progetto non si svolgerà sulla spiaggia di Capogabbana ma probabilmente esistono dei progetti di servizio civile che vengono fatti nelle favelas ora io vi domando se dopo un breve periodo che vi trovate nelle favelas vi rendete conto che fa caldo non avete mai possibilità di riposarvi molte volte molti progetti e parlo di casi concreti riguardano progetti di esistenza ai minori questi bambini senza genitori che vi pillino come unico punto di riferimento quindi che vi seguono perché finalmente hanno una figura a cui praticamente fare affidamento il caldo i problemi relative alla sicurezza la stanchezza gli odori sgradevoli perché lì si sono fogli a cielo aperto e decidete praticamente di abbandonare il progetto lo potete fare però fate un doppio danno uno a quelle persone che faceva un affidamento su di voi secondo anche l'enter che molte volte un progetto è fatto di varie figure professionali diverse che hanno un obiettivo se voi andate via può fallire l'obiettivo principale del progetto quindi la motivazione che sta a base della scelta principale della scelta degli entri del servizio è fondamentale perché devono essere sicuri che voi non le abbandonerete mai nel raggiungimento di quell'obiettivo quindi nella scelta del progetto tenuto conto che potete contemporaneamente cercare di raggiungere quello che è un pochettino il vostro sogno del cassetto ma potete anche abbinarlo a quelle che sono regalmente i vostri obiettivi di vita quindi per fare degli esempi concreti i ragazzi che stanno facendo l'ultimo anno delle scuole medie superiori possono legamente per quelli che decidono o di non fare un'università o di pigliare un anno sabbatico tutto sommato possono finire la scuola si fanno le loro belle vacanze fanno una domanda per partecipare a un progetto in servizio civile e o che croce tra gennaio del prossimo anno febbraio potrebbero fare questa esperienza e impegnare così subito attivamente questo il loro tempo innanzitutto cos'è formandosi l'illustrazione precedente che abbiamo ascoltato quella del master del dono mi è piaciuta tantissimo perché veramente ci fa capire come possiamo porci essere noi protagonisti per gli altri del cambiamento nel nostro piccolo e quindi i ragazzi oggi quando scelgono un progetto mi rifaccio la teoria del Senninger devono anche accettare le sfide che molte volte i ragazzi scelgono o il progetto che sta più vicino a casa perché così magari dormono mezz'ora in più e non capiscono che in un altro comune in un'altra provincia in un'altra regione possono regalmente trovare quelle soddisfazioni e raggiungere quegli obiettivi che ancora non hanno focalizzato quindi mai scegliere un progetto che rientra nella nostra zona di comfort non dobbiamo neanche essere eccessivamente temerari conoscendo i nostri limiti vi faccio un esempio concreto una volta una ragazza fece un progetto accettò un progetto in un ente che non faccio il nome raccoglieva sangue il problema è che questa ragazza se vedeva una goccia di sangue sviniva veramente stava veramente male ecco quindi mai scegliere un progetto dove si rientra nella cosiddetta zona di panico ma invece scegliere un progetto dove stiamo nella fase della zona di apprendimento voi considerate che tantissimi ragazzi che alla fine del percorso del servizio civile riescono ad entrare nei 12 mesi successivi nel mondo del lavoro come molti ragazzi che hanno fatto il servizio civile hanno trovato anche collocazione all'interno dell'ente di servizio civile e molte sono diventate anche dei dirigenti degli esponenti ecco le opportunità sono tante considerate che la presenza dei volontari è così pregnante che da tempo si è sentito la necessità di avere anche una rappresentanza quindi ragazzi voi eleggete dei vostri rappresentanti sia a livello regionale che a livello nazionale e i rappresentanti nazionali hanno la possibilità di interfacciarsi non soltanto con i massimi vertici dell'amministrazione ma anche con lo stesso ministro un esempio concreto lo sapete che fino a poco tempo fa l'impegno orario era di 30 ore e passata a 25 grazie all'impegno che c'è stato da parte della rappresentanza del servizio civile ma tante sono le iniziative che questa rappresentanza ha portato oggi il servizio civile ha dimostrato ancora di più quanto è diventato fondamentale per la nostra società un esempio ce l'abbiamo avuto con la pandemia appena scattato il lockdown totale è stata data la possibilità ai ragazzi su scelta volontaria se esistevano tutti i mezzi necessari di rimanere in servizio beh ce l'avevamo in servizio un poco meno di 30.000 un 10% è rimasto da subito in servizio e nell'ambito del mese successivo oltre 20.000 ragazzi hanno continuato e l'intero sistema per un periodo di tempo ha modificato quelli che erano gli obiettivi del progetto iniziale per rendersi utile sul territorio alle proprie comunità c'è chi portava pacchi di cibo vestiario medicina agli anziani che non potevano assistere quelli che hanno continuato a lavorare nelle ambulanze quelli che hanno fatto un'attività anche smart working tipo call center di assistenza telefonica di assistenza psicologica che hanno aperto siti facebook per il tenere il supporto scolastico ai bambini in questo periodo questo per farvi capire come è un sistema sicché ha le sue regole ma di fronte alla necessità si è saputo anche modellare dottor Andreani lei è stato chiarissimo cioè tutte queste informazioni sono state fantastiche e ha dato veramente un quadro di tutto quello che è il servizio civile universale se qualcuno dei nostri ragazzi volesse andare a cercare sul sito per andare a cercare tutte le informazioni che sito cerchiamo allora noi abbiamo più di un sito allora il sito principale dove può iniziare comunque è serviziocivile.gov.it oppure scelgo il mio serviziocivile.gov.it che è proprio il bando che noi utilizziamo per promuovere tutte le opportunità ma voglio dire noi molte volte che noi come dipartimento veniamo contattati da molte università per presentare il servizio civile in questo anno lo stiamo facendo sconodicamente anche via web però una cosa che le università mi chiedono spesso e volentieri di andare nelle università e fare proprio veri percorsi di orientamento perché arrivano ragazzi laureati oppure già laureati e vogliono capire come poter sfruttare al meglio le proprie conoscenze donando agli altri contemporaneamente formarsi e facciamo questi incontri vis a vis di orientamento per i ragazzi dottor Andreani si consideri contattato cioè si consideri che l'università degli studi dell'insub l'ha contatta sicuramente per questa cosa qui veramente la ringrazio tantissimo io non lo conoscevo in tutti questi dettagli il quadro che ha fornito è chiarissimo con tutti gli elementi che servono ma sicuramente ci piacerebbe continuare ad approfondire come università questo percorso quest'anno siamo stati un po' bombardati da questa cosa cioè ci sono arrivate diverse indicazioni anche da parte dei ragazzi stessi quindi ci piacerebbe fornire questo servizio ai ragazzi quindi io la ringrazio tanto questo rimarrà sul sito come ho detto lei ha dato ha dato un'indicazione anche di dove trovare tutte quante le informazioni la registrazione rimane sul sito ma la contatteremo sicuramente per approfondire ulteriormente questa possibilità e anche parlarne proprio direttamente con i ragazzi magari in specifici corsi di laurea anche per dare appunto tagli diversi a seconda del corso con cui parliamo grazie ancora e passo la parola siamo un po' in ritardo il professor Mutti avrà pietà di me passo la parola alla dottoressa Laura Faggetti del CSV Insubria che ci parla invece del Corpo Europeo di Solidarietà dottoressa Faggetti buongiorno buongiorno a tutti gli studenti giovani connessi buongiorno a tutti i relatori e grazie all'università degli studi dell'Insubria per questa bella mattinata sul terzo settore io mi chiamo Laura Faggetti lavoro al Centro Servizi per il Volontariato dell'Insubria dove tra le tante cose coordino le nostre progettazioni in ambito europeo e nello specifico le progettazioni dedicate ai giovani attraverso soprattutto due programmi europei che sono il Corpo Europeo di Solidarietà e il programma Erasmus Plus sono qui stamattina per presentarvi le esperienze di volontariato in ambito internazionale finanziate da uno di questi due programmi il Corpo Europeo di Solidarietà è un programma della Commissione Europea che vuole nato nel 2019 grazie all'intuito di Juncker che vuole favorire la partecipazione attiva dei giovani stimolare il loro senso il loro spirito di solidarietà incoraggiando soprattutto la loro capacità di farsi carico dei bisogni della comunità e insieme ad organizzazioni identi del terzo settore provare a ipotizzare delle 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 progettualità delle soluzioni a quei bisogni in che ottica? nell'ottica soprattutto della responsabilità della fiducia e della felicità cito queste tre dimensioni queste tre elementi riprendendo quanto anche il professor Citroni e il professor Casadei hanno ripreso prima hanno condiviso prima e le cito pensando a queste tre dimensioni non solo e non tanto in termini individuali personali privati ma soprattutto in termini sociali e comunitari concetti che valgono qui a Como a Varese ma anche là a Mico Aiki in Polonia a Tbilisi in appunto in Georgia il programma Corpo Europeo di Solidarietà ha quattro linee principali le le più importanti quelle che hanno un contributo da parte della commissione per circa l'ottanta per cento del appunto del finanziamento riguardano esperienze di volontariato che possono essere esperienze individuali o di gruppo short term minimo due settimane da due settimane a due mesi o long term da due a 12 mesi e riguardano anche esperienze che la commissione definisce di volontariato high priority ossia da realizzare in contesti emergenziali una minima parte del programma va a finanziare esperienze di tirocinio o anche di lavoro sempre appunto individuali o di gruppo minimo due massimo 12 mesi chi può partecipare a queste esperienze di mobilità internazionale il corpo europeo di solidarietà è aperto a tutti i giovani che hanno tra i 18 e i 30 anni e che risiedono legalmente in uno dei 27 paesi membri dell'unione o anche nei paesi partner lo preciso per i ragazzi che ci stanno ascoltando questo elemento cosa ci dice ci dice che non conta la cittadinanza dei giovani ciò che conta è il luogo dove risiedete io ve lo dico perché davvero in questi ultimi anni ho accompagnato in queste esperienze giovani che rispondevano appunto a queste caratteristiche i progetti del programma non sono progetti che selezionano i migliori fra i migliori ma anzi sono progetti in cui non vengono richiesti ai giovani titoli di studio che siano diploma di maturità laurea master piuttosto che non sono richieste competenze specifiche legate all'ambito progettuale che si andrà a scegliere né qualifiche ottenute in vari ambiti ciò che fa la differenza rispetto alla possibilità di partecipare è la motivazione dei ragazzi la loro voglia di impegnarsi e di mettere a disposizione di sé e degli altri le proprie risorse i propri sogni ma mi viene anche da dire le proprie fragilità questi progetti sono l'occasione per riscoprirsi e riscoprire anche negli altri nella comunità nelle organizzazioni che ci accompagnano un po' se stessi un po' appunto il mondo che ci sta intorno che ci attraversa che ci abita tutti quanti e di farlo mettendo in luce tutte le caratteristiche di appunto di ognuno sia quelle positive sia quelle negative nell'ottica di poter valorizzare entrambe e metterle a beneficio sia appunto di se stessi che degli altri cosa io spesso dico appunto ai ragazzi che incontro ai giovani che ho il piacere di accompagnare che queste progettualità sono progettualità per tutti davvero esperienze democratiche perché perché la commissione finanzia la maggior parte dei costi dei progetti di volontariato europeo ossia cosa copre copre il costo del viaggio di andata e ritorno dal paese d'invio Italia nel nostro caso al paese d'accoglienza copre il costo delle spese di vitto e di alloggio il costo del supporto linguistico ai giovani non è richiesta la conoscenza della lingua del paese d'accoglienza ma loro hanno il diritto dovere di imparare quella lingua come sia attraverso l'esperienza quotidiana quindi l'attività di servizio che condividono giorno dopo giorno ma anche attraverso dei corsi che vengono messi a disposizione dei ragazzi ma anche attraverso una piattaforma della commissione che si chiama online linguistic support che mette i ragazzi nella condizione di poter apprendere una lingua già da un mese prima della propria partenza fino a un mese dopo dell'esperienza online attraverso quindi il computer altro benefit che la commissione mette a disposizione dei giovani sono delle sessioni formative questo perché è stato detto anche prima dalla professoressa Prest volontari non si nasce nessuno di noi lo è nato ma lo si diventa si diventa in tanti modi attraverso l'esperienza attraverso l'affiancamento a persone operatori altri volontari esperti e attraverso la partecipazione a dei corsi formativi che infatti accompagnano i giovani in due momenti topici all'arrivo nel paese d'accoglienza e a metà progetto momenti centrali nei quali si fa il punto sull'inizio di questa nuova progettualità sulle caratteristiche del servizio che si è scelto sui diritti i doveri ma anche a metà progetto un momento centrale in cui si fa un po' il punto sull'andamento di quel servizio di quella progettualità sulla necessità di aggiustare il tiro piuttosto che confermare l'indirizzo che si è sperimentato fino a quel momento inoltre i giovani sono affiancati sempre da prima durante e dopo la propria esperienza da un tutor e un mentore che tutelano non solo il benessere delle persone coinvolte che è l'elemento centrale che sta a cuore a me come coordinatrice sta a cuore a noi come centro servizi per il volontariato ente di invio ed accoglienza di queste esperienze ma diventa anche centrale per davvero il successo del progetto la qualità di quel progetto perché se stanno bene le persone che stanno facendo volontariato in quel momento sta bene con la comunità sta bene in cui appunto si è attivi sta bene il progetto il progetto che si sta realizzando insieme altro benefit è una copertura sanitaria integrativa a quella del sistema sanitario nazionale che va a garantire qualsiasi tipo di problema che i giovani possono avere durante la loro permanenza all'estero e non da ultimo i giovani ricevono anche un pocket money una diaria mensile attraverso la quale la commissione riconosce ai ragazzi un piccolo contributo di circa 120-130 euro al mese varia a secondo del costo della vita del paese d'accoglienza con il quale viene riconosciuto l'impegno che i giovani esprimono nel servizio la loro disponibilità la loro massa in gioco durante quel periodo quali sono gli ambiti di volontariato nei quali è possibile fare questa esperienza sono davvero i più i più vari è possibile fare volontariato nel settore sociale quindi con giovani migranti donne bambini persone disabili ma ci sono progetti in ambito culturale artistico sportivo piuttosto che media comunicazione cooperazione ci sono progetti in ambito ecologico ho mandato ragazzi in in UK ad esempio un paio di anni fa fare volontariato in un circo senza animali piuttosto che a prendersi cula di leoni all'interno di zoo in Belgio recentemente una giovane comasca sta partita per fare volontariato in un museo di storia contemporanea dove sta ricostruendo la storia dei soldati italiani che hanno attraversato quel territorio ci sono davvero progetti anche estremamente virtuosi inaspettati che mi viene da dire sono lì che aspettano però voi ragazzi perché fare questa esperienza io incontro ogni settimana tanti giovani che cercano informazioni su questa opportunità e che mi raccontano di loro ognuno ha una propria motivazione e noi come centro servizi per il volontariato non esprimiamo giudizi di valore rispetto a quella ragione a quella motivazione ma aiutiamo i ragazzi a farla emergere a far sì che quella motivazione quelle ragioni diventino il lievito il motore che li guidi e li affianchi e li sostenga durante lo svolgimento del loro servizio ci sono ragazzi che hanno una voglia spiccata di aiutare gli altri di fare la differenza di appunto esprimere il proprio senso di solidarietà c'è chi ha invece particolarmente incuriosito da un paese nello specifico da una lingua chi ha voglia di immergersi profondamente in un'altra cultura chi ha voglia di acquisire nuove competenze di costruirsi e condividere nuove nuove abilità e di crescere tanti hanno molta voglia di essere finalmente indipendenti io incontro sempre più giovani che hanno tra i 18 e i 19 anni e stanno appunto facendo la quarta o la quinta superiore e ad esempio non hanno la più pallida idea di quello che vogliono fare da grandi che sono profondamente disorientati e confusi ecco che l'esperienza di mobilità internazionale potrebbe rappresentare un periodo breve o lungo che sia nel quale osservarsi mettersi in gioco fare qualcosa di sano pulito e di significativo per sé e per gli altri in cui viversi agirsi come risorsa per sé e per gli altri e in cui riconoscersi tanti ragazzi rientrano appunto anche proprio di quell'età dopo un'esperienza di questo tipo con un'idea più chiara di chi sono e cosa vogliono questo diventa davvero appunto lievito per loro ma per tutti noi per il nostro territorio perché più persone consapevoli e appunto felici ci stanno intorno più questo riusciamo tutti insieme a cambiare questo mondo e a renderlo davvero uno spazio dove trovare e costruire occasioni per tutti poi ci sono tanti ragazzi che hanno anche appunto 23, 24, 25 anni che dopo il proprio percorso universitario faticano a trovare lavoro e anche a causa della complessa congiuntura economica e che trovano in questa esperienza l'occasione per sperimentare ciò che magari hanno appreso anziché sicuramente hanno appreso durante il proprio percorso di studi per metterlo appunto a disposizione farlo crescere nutrirlo ulteriormente e allora è lì e rientrano anche dopo questa esperienza ancora più convinti di quella strada e con il proprio curriculum che diventa sicuramente più gustoso più appetibile e particolarmente dinamico potrei raccontarvi la storia dell'ultima ragazza che abbiamo ospitato qui da noi per 12 mesi lo scorso anno che dopo appunto aver studiato ingegneria aver fatto nel suo paese aver fatto un'esperienza con noi è stata due mesi fa assunta dall'Agenzia Nazionale Colacca che è la rappresentanza della Commissione Europea appunto in quel paese per occuparsi di progettazioni europee giovanili sono tante davvero le storie le ragioni le motivazioni che aprono poi anche opportunità inedite quali sono i soggetti coinvolti in queste progettazioni sono tre i giovani i volontari i ragazzi ma insieme a loro c'è la support organization e la post organization ossia l'organizzazione di invio e l'organizzazione d'accoglienza questo cosa ci dice che i ragazzi non vengono presi da Como e lanciati a Tbilisi e lì rimangono appunto vita natural durante e di loro se ne disperdono le tracce c'è una rete protetta che accompagna affianca i ragazzi prima durante e dopo e che si occupa proprio della supporto nella fase di ricerca del progetto nella fase di realizzazione dell'attività e di valutazione dopo e quindi di ridefinizione anche di un proprio progetto di vita che può ancora tenere presente di questa apertura europea quali sono gli step per i giovani se decidono che vogliono partire per un'esperienza di volontariato europeo il primo step è quello di trovare un'organizzazione di invio il centro servizi per il volontariato dell'insubria è l'unico ente di invio d'accoglienza di coordinamento sul territorio di Como e Varese il secondo step è quello di scriversi al portale del corpo europeo di solidarietà quindi scrivere il proprio curriculum è una lettera di motivazione in inglese e attraverso appunto anche il mio supporto di definirla in maniera ancora più accattivante pulita e precisa quindi di cercare il proprio progetto all'interno del portale ufficiale della commissione attivare i contatti con l'ente e poi partire questo lo dico soprattutto ai giovani che ci ascoltano dal momento in cui una persona decide che questa opportunità potrebbe fare per sé al momento della partenza minimo passano quattro mesi quindi questa esperienza che può diventare generativa non si può improvvisare ma è necessario attivarsi per tempo e io sono qui per aiutarvi vedo che dottoressa Faggetti non voglio metterle fretta come vede siamo piuttosto in ritardo e i problemi tecnologici non ci hanno aiutati stamattina vediamo gli elementi chiave dove possono trovare le informazioni perché lei è stata chiarissima se io avessi meno di 30 anni partirei subito glielo dico subito parteciperei immediatamente a questa opportunità dove trovano le informazioni chi possono contattare quando devono stare attenti si possono tutti i siti ci sono appunto nella presentazione di trovati ma possono contattare il centro servizi per il volontariato dell'insubria e entrano appunto direttamente in contatto con me sul sito sul nostro sito c'è se vi dell'insubria c'è proprio il bottone chiarissimo in evidenza per fare esperienze di volontariato in Europa e poi mostro io ai ragazzi quali sono i siti ufficiali della commissione dove appunto dove candidarsi ma il centro servizi per il volontariato dell'insubria è il soggetto di riferimento e ne approfitto per farle anche un'altra domanda in questo momento di pandemia generale caotica come funziona? in questo momento sono particolarmente felici di dirvi che la commissione non ha chiuso la possibilità per i giovani di partire di continuare queste progettazioni noi abbiamo sei ragazzi in questo momento in giro per l'Europa che stanno facendo volontariato insieme a noi insieme ai nostri partner e ne avremo appunto ne abbiamo altri cinque in partenza sto parlando di progettazioni sicure nelle quali insieme ai nostri partner abbiamo valutato che tutte le condizioni non solo minime ma anche essenziali siano a loro disposizione per garantire appunto la sicurezza un percorso d'apprendimento di crescita che non si riferisca solo alle 30 35 ore di attività ma proprio anche alla vita dei ragazzi l'augurio che ci facciamo tutti e che con l'estate possano rifiorire tutte quelle opportunità che abbiamo dovuto tenere un po' nel cassetto perché alcuni contesti non ce l'hanno consentito ma siamo tutti pronti obiettivi per seguirvi se appunto siete interessati e se avete quella motivazione appunto a farlo grandioso lei è stata entusiasmante cioè sono gli occhi che brillano che fanno la differenza dico io quando guardi una persona che ti racconta un'esperienza una passione con gli occhi che brillano è chiaro che stiamo parlando di qualcos'altro siamo catapultati su un altro mondo ripeto di nuovo questa presentazione sarà sul sito la registrazione del suo intervento sarà sul sito e come ho detto prima al dottor Andreani ci piacerebbe avere un momento come Università dell'Insubria in cui approfondire con attenzione tutto l'ambito del servizio civile del corpo europeo di solidarietà quindi anche lei si consideri già agganciata siamo in diretta registrati non può dirmi di no così platealmente e poi lei è troppo entusiasta e deve dirmi assolutamente di sì assolutamente di sì anche portando le testimonianze dei nostri ragazzi perché fantastico questo sarebbe ancora esatto sarebbe ancora più bello avere proprio sentirlo dalla viva voce di chi poi nel mondo c'è stato grazie dottoressa Faggetti grazie di cuore e passo la parola all'ultima speaker di questa sessione la dottoressa Susanna Monello segretaria nazionale di Citalia che ci parla del servizio civile internazionale anche alla dottoressa Monello chiedo di essere un po' concisa perché siamo un po' in ritardo e vorrei non essere uccisa dal professor Muti per la prossima sessione possibilmente grazie buongiorno innanzitutto ringrazio l'università per l'opportunità di questo incontro che è sempre molto utile per le giovani per i giovani dare una panoramica così ampia di un settore così complesso e delle tante opportunità che fortunatamente in questo momento hanno cercherò appunto come è stato richiesto di essere coincisa non ho slide non ho ho pensato insomma proprio per andare in maniera un po' più efficace di non portare materiali ma semplicemente di raccontare un po' la nostra esperienza e a voce una piccola premessa con cui comincio appunto noi siamo il servizio civile internazionale siamo la branca italiana di un movimento internazionale che nasce alla fine della dopo la prima guerra mondiale con l'idea di mettere insieme le persone fianco a fianco anche quando provenivano da contesti che durante la guerra erano stati appunto nemici metterle fianco a fianco nel lavorare per la ricostruzione che fosse una ricostruzione fisica del territorio dei villaggi distrutti ma che fosse anche una ricostruzione del tessuto sociale con l'idea che una ricostruzione del tessuto sociale dovesse necessariamente passare per una appunto per il superamento degli stereotipi e per una società che già al tempo forse con parole diverse però si identifica un po' con quella che oggi possiamo definire che viene più comunemente definita una società interculturale in qualche modo veniamo in Italia a volte confusi in Italia in Francia in Germania insomma nei paesi dove con l'obiezione successivamente all'obiezione di coscienza sono nati poi il programma del servizio civile a volte veniamo confusi perché il nome può sembrare simile in realtà è diverso ma ovviamente quando sono nati poi nei vari paesi europei i diversi programmi di servizio civile sostenuti dai governi non potevamo cambiare nome perché già eravamo un network internazionale che travalicava insomma i confini anche i confini europei nel senso che poi il network in realtà ha avuto un grandissimo sviluppo ad esempio a differenza di molte altre realtà del terzo settore internazionale ha avuto un grandissimo sviluppo per esempio nei paesi dell'Asia questa è una cosa che ci teniamo abbastanza spesso a sottolineare di che cosa ci occupiamo ci occupiamo appunto di promuovere nella direzione appunto di un contesto di pace che passi attraverso appunto l'equità e la giustizia sociale ci occupiamo di farlo attraverso la concretezza quindi attraverso campi di volontariato innanzitutto quindi attraverso esperienze di volontariato di lungo termine e poi attraverso tanti progetti anche all'interno del Corpo Europeo di Solidarietà e dei programmi di Erasmus Plus di cui abbiamo appena appena parlato quindi attraverso anche progetti di non solo volontariato ma anche progetti di capacity building di scambio di buone pratiche per operatori giovanili per operatori del terzo del terzo settore training scambi scambi giovanili anche legati al tema dell'inclusione sociale una cosa che ci tenevo un pochino a raccontare non è tanto tutti i dettagli delle attività che facciamo potete insomma si può trovare sul sito www.sc trattino in mezzo trattino alto il meno italia.it si possono trovare tutte le informazioni sulle tantissime opportunità di volontariato o di progetti finanziati insomma che ci sono di formazione quindi insomma non entro appunto in questi in questi dettagli perché sicuramente ognuno può cercare poi andare ad approfondire quello di che più interessa ci tenevo a raccontare alcuni piccoli alcuni diciamo alcuni elementi che per noi sono che per noi sono importanti innanzitutto una caratteristica del network importante da condividere è il fatto che non facciamo una cooperazione in senso classico ma tutte le organizzazioni del nostro network in qualche modo si autodeterminano quindi non siamo noi sci Italia ad andare ad individuare quale sarà il campo di volontariato da realizzare in Kenya o da realizzare in Germania ma sono le organizzazioni del territorio e lo stesso vale anche per l'Italia noi facciamo circa 30 35 campi di volontariato in Italia tendenzialmente tendenzialmente ovviamente non nel 2020 e meno nel 2021 però appunto sono i partner del territorio che elaborano i loro progetti mantenendo alta l'attenzione su quelli che sono i bisogni specifici del territorio il valore aggiunto che si realizza all'interno dei campi di volontariato è proprio quello di mettere insieme la dimensione internazionale con la dimensione locale quindi gruppi di volontari per metà locale per metà internazionali che lavorano fianco a fianco su un'attività concreta necessaria per la comunità in cui questa attività si inserisce e appunto parliamo anche come si diceva prima di attività a 360 gradi si parla di educazione si parla di ambiente si parla di di rigenerazione insomma ci sono diverse tematiche a cui ci si riferisce un elemento appunto fondamentale del tipo delle attività che promuoviamo è l'idea della cittadinanza attiva il tipo di volontariato che ci interessa non è un volontariato che come dire one shot un volontariato che lì nasce e poi si ferma un volontariato dedicato esclusivamente alla crescita personale ma è un volontariato che sia esclusivamente un volontariato diciamo di di aiuto ma è un volontariato che mette in moto delle dinamiche che crea e che alimenta delle dinamiche di solidarietà delle dinamiche orizzontali delle dinamiche di partecipazione questa è la parte che più ci interessa e che fa parte un po' del dell'approccio di base con cui portiamo avanti il nostro lavoro un elemento importante è che questo volontariato sia il più possibile un volontariato accessibile a tutte e a tutti quindi un volontariato che in qualche modo anche dal punto di vista economico oltre che dal punto di vista della formazione sia un volontariato che appunto non sia in qualche modo discriminatorio e che possa davvero essere aperto per questo abbiamo anche dei programmi specifici di inclusione tutti inclusi dove appunto si cerca di lavorare su questo aspetto l'altro aspetto è che proprio in virtù dell'accessibilità un volontariato cioè cerchiamo creiamo delle opportunità di volontariato e appunto di meccanismi di solidarietà che non necessariamente necessitino delle professionalità già costituite perciò ovviamente non interveniamo ad oggi lo facevamo in passato non interveniamo in contesti di emergenza in maniera strutturata insomma però ci teniamo appunto a stimolare le opportunità per i giovani per le giovani di essere cittadini attivi non essere dei professionisti non vuol dire essere impreparati noi siamo al momento che io sappia ancora praticamente l'unica organizzazione che si occupa di campi di volontariato in Italia che rende obbligatorio un percorso di preparazione per chi parte perché è vero che come dire nella maggior parte dei casi le intenzioni sono buone ma abbiamo sempre bisogno di strumenti che non sempre dalla nostra quotidianità riusciamo a mettere insieme quindi quando ci approcciamo anche ad un contesto molto diverso che sia dal punto di vista culturale o che sia magari per altre per delle fragilità magari intrinseche è necessario se non è necessario essere professionisti per potersi attivare e poterci mettere del proprio è sicuramente necessario avere degli strumenti ed essere preparati quindi ovviamente noi siamo diciamo nella storia abbiamo cominciato a fare educazione non formale quando ancora la definizione ed educazione non formale non era poi così definita né in termini pedagogici né in termini diciamo né così riconosciuta per esempio dalla Commissione Europea continuiamo a farlo in questi ultimi due anni tutte le formazioni di preparazione al volontariato sono state spostate online con una parte ridotta in presenza tra l'altro una partirà brevissimo insomma ad inizio aprile ci sarà un nuovo ciclo di preparazione Dottoressa Monello a questo proposito se ci fossero degli studenti che fossero interessati perché lo scopo è appunto creiamo opportunità che cosa devono fare cioè ci sono dei bandi vi contattano direttamente in qualunque momento dell'anno qualche indicazione le formazioni e gli incontri di preparazione diciamo sono aperti ovviamente si devono iscrivere dovranno essere poi tesserati però appunto basta che ci contattano su info chiocciola sci meno il trattino alto sempre italia.it e ricevono tutte le informazioni sul nostro sito c'è pubblicato tutto sulla pagina facebook servizio civile internazionale italia anche e poi appunto a seconda del caso in caso noi cerchiamo anche di fare un lavoro di orientamento quindi facciamo molte telefonate con le persone per capire effettivamente a cosa sono interessate come orientarli ci occupiamo appunto anche di di corpo europeo di solidarietà quindi sviluppiamo anche cioè diciamo quando facciamo queste chiamate di orientamento teniamo dentro anche tutto questo filone e quindi questo insomma era uno degli elementi che ci tenevamo molto a a sottolineare questo della preparazione sicuramente le esperienze di volontariato sono delle esperienze che in qualche modo contribuiscono a formarci come cittadini come persone e contribuiscono a darci quelle soft skill di cui parlavamo prima che poi sono necessarie anche nel mondo del lavoro però non sono delle esperienze di lavoro non sono delle esperienze professionali e questo è necessario appunto al fine di mantenere no quella quell'approccio al volontariato come ricerca di cambiamento e di trasformazione io per il momento visti appunto i tempi vedendo da mezzogiorno mi fermerei qui però davvero magari inviterei una cosa che posso dire è che appunto tante delle attività che facciamo sia di formazione ma sia proprio di volontariato ci stiamo sperimentando in questi anni nello spostarle online per cui abbiamo anche creato questi nuovi campi di volontariato online online work camps che ovviamente hanno come dire non hanno sicuramente la dimensione del contatto fisico ma che sono comunque una formula sia per entrare in contatto con persone che vengono da contesti completamente diversi dai nostri sia per fare un lavoro congiunto insomma su alcuni su alcuni temi e quindi appunto poi rimando un po' al sito sia per quel che riguarda i work camps fisici per i work camps online per gli incontri di preparazione per i progetti di lungo termine per qualsiasi grazie grazie veramente grazie cioè in questa sessione abbiamo ottenuto delle informazioni fantastiche cioè peccato non essere più giovani come ho detto prima la dottoressa Faggetti se no io farei quindi ringrazio anche la dottoressa Monello ne approfitto i campi di volontariato sono aperti a tutte le età è vero i campi di volontariato sì è perfettamente vera questa cosa è esatto cioè rispetto al servizio civile che ha un range di età come giusto e tutto il resto i campi di volontariato mettono permettono a chiunque professionisti o non perché anche questo è stato interessante cioè bisogna avere gli strumenti questo è quello che abbiamo detto sin dall'inizio oggi lavorare nel terzo settore non significa non avere strumenti o non avere competenze però sono strumenti che si acquisiscono e competenze che si sviluppano io ne approfitto per salutare tutti i relatori di questa sessione perché c'è una domanda da un ragazzo dalla platea che dice come faccio a capire se il terzo settore è il mondo in cui lavorare in futuro io sono uno studente laureato in biotecnologie e cosa posso fare ad esempio posso prendere il servizio civile cioè il servizio civile potrebbe essere un elemento da prendere in considerazione allora io non ho una risposta ovviamente io non ho una risposta anche perché qua nessuno di noi è un tutologo però un laureato in biotecnologie io una chiacchierata con la dottoressa Rossi me la farei anche subito onestamente senza neanche senza nemmeno pensarci due volte in ogni caso secondo me gli elementi che sono usciti oggi che sono quelli che sono usciti anche con le carriere internazionali e che per lavorare in ambiti come questi bisogna aver la voglia di mettersi in gioco avere la voglia di continuare a formarsi questo è vero in tutti gli ambiti aver la voglia di partire perché le tante delle cose che abbiamo sentito oggi ci hanno aperto la mente sul fatto che bisogna essere capaci di uscire dalla propria comfort zone cioè la propria zona di confort è una cosa che è vero si sta bene si sta a cuccia come il gattino o il cagnolino nella sua cuccia ma bisogna per mettersi in gioco bisogna uscire da questa zona rimboccarsi le maniche e avere voglia di fare qualcosa per gli altri che poi diventa qualcosa per se stessi perché ce lo siamo detti dall'inizio quando facciamo per gli altri doniamo e non c'è niente che ci fa sentire meglio che fare qualcosa per gli altri quindi secondo me per capire bisogna avere delle caratteristiche per capire se questo è la via bisogna avere delle caratteristiche e poi parlare con le persone perché bisogna assolutamente confrontarsi con le persone che questo mondo lo vivono per capire se è proprio il mondo in cui vogliamo entrare ringrazio tutti i relatori di questa sessione che sono stati fantastici siete tutti ovviamente già ingaggiati per la sessione che fare un evento dedicato che faremo sul servizio civile quindi tenetevi pronti non potete dirmi di no e finalmente passo la parola e anche il testimone da moderatore al professor Giuseppe Mutti e alla professoressa Stefania Barile prendiamo spunto dalla cittadinanza attiva e parliamo di antimafia civile e reti di cittadinanza attiva Giuseppe il microfono il testimone e tutto quanto è nelle tue mani grazie Michela e grazie anche a tutto l'Ufficio Blazeman che ha così fortemente contribuito all'organizzazione di questo evento di grande interesse in effetti attraverso questa breve sessione dedicata all'antimafia civile e alle reti di cittadinanza attiva passeremo davvero come abbiamo cercato di fare durante il resto della mattinata passeremo dalla teoria alla pratica in qualche modo ed in effetti la parola d'ordine di questa sessione sarà proprio cittadinanza attiva dalla teoria alla pratica dicevo perché perché guardate l'impegno dell'insubria in questa direzione è sempre più forte e sempre più pratico e quindi proprio oggi pomeriggio non a caso inizierà esordierà il laboratorio geografico sulle mafie nell'ambito del corso in storia e storia del mondo contemporaneo destinato a diventare un appuntamento di formazione e informazione di cadenza annuale siamo peraltro proprio nel mezzo della settimana della legalità organizzata dall'università degli studi di Milano un'iniziativa che trovo molto interessante alla quale forse potremmo ispirarci per il prossimo futuro proprio all'insubria e siamo a due giorni dalla giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie pensate una giornata che è stata organizzata per la prima volta in maniera spontanea nel 1995 da libera ed è diventata due anni fa una giornata istituzionale arrivata oramai alla 26esima edizione quindi vediamo come la cittadinanza attiva può arrivare a consolidarsi a istituzionalizzarsi in pratiche assolutamente positive il mio intervento sarà brevissimo proprio perché abbiamo dei testimoni straordinari ed è il caso assolutamente di far parlare loro condividendo le loro esperienze vorrei però cercare brevemente di contestualizzare il quadro il punto di partenza non può che essere uno una presa di coscienza forte e collettiva ovvero le mafie le mafie sono da 150 anni una parte integrante della vita sociale politica ed economica italiana questo è l'incipit di una ricerca di un libro di Marco Santoro che si chiama proprio riconoscere le mafie e non è per nulla una cosa scontata in effetti le mafie come sappiamo sono storicamente radicate in alcune aree definite di insediamento tradizionale ma sono tutt'altro che fenomeni prettamente locali anzi fin dal novecento le mafie hanno manifestato una straordinaria capacità di espansione al di fuori dei confini originali ed entriamo subito nell'ambito del territorio pensate che il primo omicidio mafioso nel nord Italia risale al 1954 ed è stato commesso proprio qui a Varese a Campo dei Fiori pensate anche che l'allora capo dei capi di Cosa Nostra siciliana diciamo Meggio è stato arrestato nella sua casa di via Ripamonti a Milano nel 1974 negli anni sessanta in effetti sono presenti a Milano tanti diversi boss di notevole spessore criminale ci sono Gaetano Badalamenti e Gerlando Alberti di Cosa Nostra a Milano altri invece vanno in provincia come Franco Cocco Trovato dell'Andrangheta che si installa in provincia di Como o come Giacomo Zagari che vive in provincia di Varese a Bugugiate e in effetti gli affari sono remunerativi ci sono trappici illeciti che soddisfano le attenzioni criminali poi inizia la famosa stagione dei sequestri con centinaia di persone rapite fra gli anni settanta e ottanta e poi l'ingresso da protagonisti nei trappici di droga bene fino agli anni ottanta Cosa Nostra siciliana svolge un ruolo preponderante a Milano in Lombardia e nel nord Italia ma la presenza dell'Andrangheta è molto forte si consolida nella stagione dei sequestri e diventa egemone a partire dai decenni seguenti anche a seguito del declino di Cosa Nostra pensate che nel 1975 è aperto il primo locale di Andrangheta nel nord Italia ed è aperto in provincia di Como apro e chiudo parentesi come abbiamo imparato dalle inchieste ed anche dai servizi giornalistici in locale di Andrangheta non è una pizzeria o una discoteca sotto il controllo dell'Andrangheta il locale è la cellula base dell'agire mafioso sul territorio è un gruppo di azioni di violenza e di fuoco che opera con la violenza in diretto contatto con l'omonimo locale calabrese bene pensate che nel 2010 l'operazione Crimine Infinito ci ha svelato che in Lombardia esistevano all'epoca ben 16 locali scoperti dalle forze dell'ordine con oltre 500 affiliati arrestati una delle ultime una delle ultime relazioni semestrali della via ad esempio nel 2018 ci dice che i locali attivi in Lombardia sono almeno 30 con una particolare concentrazione nelle province di Milano di Monzebrinanza di Varese di Como di Lecco e di Pavia attenzione però perché le mafie in Lombardia in provincia di Varese nel nord Italia insomma non sono un virus illegale in un corpo onesto ed eticamente sano e robusto la loro presenza non è un'infiltrazione sudola nei settori della politica e dell'economia che sarebbero altrimenti integerini c'è una frase di Dalla Chiesa che mi piace sempre molto citare dice continuare a usare il termine infiltrazione sconfina nell'irresponsabilità intellettuale e civile ed in effetti fin dagli anni 70-80 le mafie hanno adottato una strategia adattativa e nel nord Italia in Lombardia a Milano a Varese hanno trovato un ambiente particolarmente ricettivo e favorevole addirittura protettivo perché condivideva con le mafie i mezzi a cominciare dalla corruzione e i fini oppure l'arricchimento rapido ingente l'accumulazione di posizioni di potere amministrativo che concentrano che permettono l'accesso alle risorse pubbliche e questo ambiente che ha offerto ospitalità riproduttiva alle mafie ha favorito l'impunità con il silenzio con la complicità ha favorito anche la rimozione sociale del fenomeno mafioso la rimozione mediatica e culturale della violenza mafiosa anzi della stessa esistenza delle mafie al nord che viene a tutt'oggi messa in discussione in breve la presenza mafiosa nel nord Italia è stata spesso normalizzata ed ecco quindi la conclusione di questa introduzione perché parliamo di cittadinanza attiva perché la cittadinanza attiva è la prima e più efficace forma di resistenza sociale contro la rimozione contro l'impunità e quindi anche contro la normalità della presenza criminale nelle istituzioni ma non stiamo esagerando settimana scorsa l'ex assessore regionale Domenico Zambetti è stato definitivamente condannato a sette anni e mezzo di carcere per voto di scandio politico mafioso nell'occasione che portò le dimissioni in blocco del Consiglio regionale della Lombardia così era nel 2012 se non vado a rato e poi le elezioni anticipate del 2013 sono persone che abbiamo vissuto tutte e tutti in prima persona e che forse purtroppo abbiamo rimosso ci siamo dimenticati bene questo è il ruolo della cittadinanza attiva questo è quello che fanno le reti di cittadinanza antimafia civile quindi lottano che cosa? contro l'impunità contro la normalità della presenza mafiosa nelle istituzioni nelle relazioni economiche nelle relazioni politiche e sociali nella prossima ora parleremo proprio di questo e lo faremo con degli ospiti straordinari innanzitutto la professoressa Stefania Barile che appartiene proprio al mondo dell'insubria e della provincia di Varese ed appartiene anche al mondo degli insegnanti che per primi negli anni 80 hanno fatto rete hanno coinvolto gli studenti e la società civile hanno creato quello che è stato definito una definizione bellissima un fiume pedagogico che ha letteralmente innescato il movimento antimafia civile in Italia e poi vedremo una serie di esperienze concrete dalla scala regionale fino a quella di quartiere che ci illustreranno l'associazionismo l'informazione i beni confiscati la memoria la ricerca insomma le reti dell'antimafia civile e le pratiche di cittadinanza attiva ecco questo è un po' il programma di questo retto che trascorreremo assieme e vorrei invitare a diciamo così a condividere questa questa conduzione la professoressa Stefania Barini che potrà sicuramente portarci una testimonianza diretta dall'Università dell'Insubra e poi data la sua straordinaria esperienza proprio lei fa parte dell'anzi è la creatrice della commissione legalità del centro internazionale insubrico ma è anche una straordinaria speaker radiofonica e quindi sono sicuro che assieme riusciremo a mantenere alta l'empatia di questa retta che trascorreremo assieme Stefania ben trovata grazie di essere qua allora grazie a tutti grazie al professor Giuseppe Mutti che è veramente straordinario in questa presentazione che mi rusinga molto grazie all'ufficio orientamento placement dell'Università degli Studi dell'Insubria che da sempre con cui da sempre ho collaborato fin dall'alternanza scuola-lavoro fino alle ultime risorse in ambito proprio di cittadinanza attiva attraverso i percorsi per competenze trasversali orientamento ringrazio tutti per l'attenzione soprattutto che l'Insubria riserva sempre a questa dimensione educativa perché quello che è stato creato stamattina è un ambiente educativo è l'ambiente in cui noi possiamo fare cittadinanza attiva è l'ambiente in cui viene la voglia di mettersi in gioco come diceva prima la dottoressa Presto c'è proprio la voglia di sentirsi parte integrante di un ambiente così stimolante così innovativo ora anche proprio l'antimafia civile prevede questo prevede questo ambiente lo lo segue lo determina lo delinea lo conforma ma proprio perché è l'ambiente in cui i giovani devono ritrovare un senso anche alla loro resistenza al malaffare all'interno di questa di questo coinvolgimento corale che è la costruzione di un mondo migliore e in questo caso l'ambiente che è fatto da fattori di crescita a livello pedagogico è così l'ambiente fatto da tanti fattori di crescita da fattori che possono condizionare il comportamento e quindi le azioni dei nostri giovani e noi dobbiamo offrire grazie anche a questa giornata un ambiente fatto da tanti fattori di crescita utili perché i nostri giovani possano orientarsi questa sezione dedicata all'antimafia civile alle reti ha ovviamente una grande forza la forza consiste nella possibilità di fare qualcosa di fare qualcosa all'interno di una resistenza che è costruzione e progettazione continua in questo fare qualcosa significa che noi chiediamo ai giovani di allearsi sul territorio e per il territorio per una difesa costante non solo come scudo sociale l'antimafia ma anche come possibilità di costruire nuove possibilità di lavoro nuove possibilità di mettersi in gioco ma attraverso le proprie competenze le competenze che si acquisiscono in questo cammino di formazione che anche l'università dell'insubria contribuisce a offrire quindi questa è una vetrina bellissima meravigliosa di grandi opportunità perché se noi pensiamo che l'antimafia è solo la storia di quelli che hanno già fatto no no quelli sono il gradino per noi sono una possibilità di studio di approfondimento di riflessione su quei modelli per costruire nuove linee di progettazione per costruire nuove realtà per metterci in una condizione non solo di condivisione ma anche di progettazione completamente innovativa e come si fa a progettare in modo nuovo e questo lo facciamo insieme questa mattina in questa sezione come si fa a progettare in una maniera diversa questo all'interno di questo ambiente che è fatto da tanti fattori di crescita beh evidenziamo i fattori di crescita in questo caso se le due parole chiave che già il professor Muti ci ha più volte restituito attraverso questa ricostruttura una condizione puntuale sono impegno civile e rete immediatamente sappiamo che l'impegno la rete l'impegno civile la rete dei cittadini sono già due elementi precisi di questo ambiente formativo l'impegno l'impegno cosa significa è solo mettersi in gioco no è il conoscere noi ci impegniamo quando sappiamo dove far convergere le nostre forze in questo caso significa che io devo conoscere l'ambito in cui io posso veramente devolvere il mio impegno fatto di tempo di energie di capacità di pensiero e capacità appunto di condivisione di questi pensieri e capacità di pensarne dei nuovi non solo il pensiero già pensato ma qualcosa di nuovo e questa è la grande forza e le reti ma le reti sono la possibilità di offrire non solo condivisione ma anche un'amplificazione sul territorio e non comprendono solamente i gruppi o di studenti ma le associazioni del territorio che sono associazioni nell'ambito ovviamente di una ricerca specifica che è quella verso la lotta alla mafia ma sono associazioni più ampie che comprendono un lavoro progettuale decisamente più puntuale vediamo noi che cosa il centro internazionale in subrico che io qui rappresento e che è diretto dal professor Fabio Minazzi fa il centro internazionale in subrico è un centro speciale di ricerca per la filosofia l'epistemologia le scienze cognitive la storia delle scienze della tecnica cosa fa all'interno del centro internazionale in subrico a parte l'aspetto della ricerca ci sono 20 archivi più di 15 mila volumi di biblioteche d'autore consente e questo 12 anni fa la formulazione di un progetto universitario che ormai è conosciuto su tutto il territorio nazionale ed è Giovani Pensatori che cos'è questo progetto è un progetto di didattica metodologica interdisciplinaria matrice filosofica cosa fa permette di mettere al centro una problematica e di studiarla analizzarla attraverso il confronto con i classici della filosofia solo no non solo attraverso il confronto con i classici della filosofia e tutti quelli studiosi che si sono confrontati su quell'argomento perfetto i ragazzi iniziano un dibattito iniziano a costruire una linea progettuale propria si mettono in una posizione che può diventare la posizione della loro ricerca e incominciano a lavorare con chi? con i loro docenti perché? perché insieme possono mettere in pratica quello che imparano cioè le loro competenze il progetto Giovani Pensatori consente di fare questo il progetto Giovani Pensatori a un certo punto siamo nel 21 marzo 2016 a un certo punto pensa a un altro percorso che non è un percorso alternativo no un percorso che già intorno al 2010-2011 si era già evidenziato in particolare con alcune mie classi che avevano lavorato sulla legalità sull'educazione della legalità a un certo punto nasce questa possibilità cioè di creare un tavolo di lavoro per il civic engagement cioè parlare non solo di sensibilizzazione alla legalità di educazione alla legalità ma di mettere in pratica quello che si era imparato e che si era studiato da qui nasce la commissione legalità del centro internazionale in subrico un tavolo di lavoro che è composto da dirigenti scolastici docenti ma anche ex studenti delle nostre scuole e studenti universitari quindi ma anche ma anche di esperti nell'ambito storico-filosofico giuridico nell'ambito della comunicazione multimediale questo perché? perché ci si muove tutti con un'idea quella di lavorare intorno all'articolo 9 della Costituzione quindi sulla tutela sulla promozione della ricerca scientifica sulla tutela del paesaggio e questo cosa ci permette di fare? E questo ci permette in realtà di entrare quelle problematiche che riguardano appunto la tutela del patrimonio storico-artistico e quindi incontrare ancora una volta la mafia sotto forma di traffici illeciti di opere d'arte e di archeomafia e anche nell'ambito in questo caso della tutela del paesaggio e l'ecomafia e qui ci siamo praticamente immersi in questa problematica che è diventata una problematica importantissima quale elemento noi vogliamo rilevare qui? il fatto che questa la commissione legalità come tavolo ha progettato proprio un laboratorio Civic Engagement Lab di nome legalità come prassi quindi dalla sensibilizzazione e la legalità come prima diceva il professor Mutti passiamo alla cittadinanza attiva e allora mettiamola in pratica che cosa noi possiamo fare? Beh, possiamo diffondere possiamo mettere sul web all'interno del network che è il centro internazionale in subrico la rete delle scuole dei giovani pensatori che ormai ha superato i 30 istituti sul territorio all'interno di una dimensione di associazioni che ormai collaborano con noi sia dal punto di vista museale per cui abbiamo otto musei che ormai sono alleati alla commissione legalità ma anche dal punto di vista associativo ambientalista per cui noi ci mettiamo davvero a fianco della amministrazione comunale la sosteniamo in questi progetti di sostenibilità in particolare il piano d'azione per l'energia sostenibile per il clima e allora la cittadinanza diventa attiva e allora i ragazzi allora ce la fanno e allora i ragazzi capiscono che si può cambiare e che si può avviare un percorso di grande crescita ultima cosa e poi lascio ovviamente la parola agli altri esempi che diventano importantissimi testimonianze di nuove proposte di nuove potenzialità qual è l'altra proposta della commissione legalità nata tra l'altro un anno fa è il service learning università e territorio per un'università al servizio della collettività cosa vuol dire vuol dire che i ragazzi che non sono più solamente quelli del liceo che lavorano nei percorsi per competenze traversali orientamento e ormai ne abbiamo solamente quest'anno iscritti più di 1.100 e ogni anno è così sostanzialmente per quanto riguarda l'ambito proprio prettamente universitario eravamo rimasti un po' scoperti allora l'idea è quella di coinvolgere anche gli studenti universitari in particolare quali? quelli al terzo anno cioè quelli che hanno già 120 crediti quelli che possono applicare proprio sul campo in questo caso il campo il territorio le loro competenze dove? nell'ambito delle scuole allora l'alleato diventa l'ufficio scolastico territoriale allora in questo caso l'ufficio scolastico territoriale è diventato il nostro alleato quindi dà la possibilità attraverso la rete delle scuole ovviamente del ex provveditorato la possibilità ai giovani di poter affrontare un percorso didattico educativo formativo sulla base delle loro competenze direttamente programmatiche con gli insegnanti entrano nelle scuole e fanno laboratori è chiaro che in questo momento il laboratorio che noi abbiamo già avviato grazie al corso di storia e storia del mondo contemporaneo di cui anche il professor Giuseppe Muti fa parte in questo caso ha già avviato un percorso di questo tipo all'interno di una scuola media questo cosa significa? Significa che i ragazzi mettono in pratica ma col cuore service learning io l'apprendimento a servizio io metto a servizio quello che ho imparato perché credo fondamentalmente che quello che ho imparato è utile e allora in questo caso l'utilità dove sta a offrire basi storiche ovviamente basi informative che consentono di costruire quell'ambiente di cui abbiamo fatto ritenimento l'obiettivo l'obiettivo è sempre quello di creare una condizione di ricerca di riflessione sviluppo del pensiero critico sviluppo in questo caso di capacità e di competenze di straordinario valore per i ragazzi per gli insegnanti per credere in qualche cosa in questo momento storico i ragazzi sono in un grande momento di disagio profondo e noi in qualche modo dobbiamo fare qualcosa la giornata di oggi è una giornata dirompente perché crea nuove linee e crea soprattutto grandi speranze che però non sono speranze immaginate solamente come uno scenario così c'è la possibilità di no diventa concreto e quindi la concretezza è quella di cui noi parliamo questa mattina e questa mattina ne parliamo proprio direttamente con chi effettivamente all'interno della commissione antimafia della regione Lombardia sta lavorando e ci può dare un'indicazione di questa cittadinanza attiva in questo caso con il dottor Francesco Terragno e poi con Libera in questo caso con Antonella Buonopane con cui ho collaborato proprio con le acli provinciali all'interno di un percorso che ha fatto conoscere ai giovani da vicino Domilani e poi Giorgia Venturini caporedatrice del sito informativo stampo antimafioso che diventa per noi fondamentale perché lì ci sono giovani studenti universitari che sono diventati giornalisti redattori e che si impegnano costantemente a informarci su quello che succede è bellissimo questo sito e quindi dovete assolutamente andare a visitarlo e assolutamente iscrivervi perché è una cosa meravigliosa e poi Stefano Morara come responsabile dell'associazione Civitas Virtus della zona 9 di Milano che in questo caso ci offrirà anche qui un risvolto importante di un quartiere quello del municipio 9 che in qualche modo si è mosso quindi i cittadini per tutto questo ovviamente per offrirvi come diceva prima il professor Muti la possibilità di avere concretezza di parlare di cittadinanza attiva ma all'interno di questo mondo che è il nostro mondo all'interno di un territorio che è il nostro territorio ultima cosa e poi incomincio a lasciare la parola agli altri quando noi abbiamo pensato nella commissione legalità un lavoro di cittadinanza attiva abbiamo pensato al nostro territorio con l'avvento della DAD abbiamo aperto a tutti questa possibilità di lavoro collettivo e abbiamo con noi tra l'altro un liceo uno delle eccellenze in territorio nazionale che è il liceo Zaleuco di Locri che lavora con noi all'interno del service learning in questo caso posizionato in una parte fondamentale cioè quella di una progettazione di studio con gli studenti dell'università della Calabria sull'idea di un parlamento mondiale e in questo caso pensate il liceo Zaleuco di Locri è stato uno dei licei manifestanti uno dei primi manifestanti del 1990 negli anni 90 contro Andrangheta ci sono ancora foto che voi trovate nel web di queste manifestazioni collettive questo per darvi l'idea di cosa effettivamente si può fare all'interno della commissione legalità e delle attività ad essa correlate se il professor Muti è d'accordo io darei direttamente la parola al dottor Francesco Terranio scusa Stefania se ti interrompo no forse è meglio spegnere il microfono puoi spegnere il microfono grazie stavo dicendo proprio perché siamo entrati dalla teoria nella pratica abbiamo qualche problema pratico visto che si è prolungato un po' questa mattinata e quindi darei la parola per prima se siete tutti d'accordo alla dottoressa Giorgia Venturini caporedatrice del sito stampo antimafioso e coinvolgerei fin da subito lei perché tra mezz'ora deve essere in redazione quindi giustamente il passaggio dalla teoria alla pratica quindi Giorgia buongiorno bentrovata grazie buongiorno grazie scusate per questo cambio di programma motivi appunto di lavoro e di orari devo scappare allora io ringrazio ringrazio voi ringrazio Giuseppe appunto per questo per questo invito perché ci dà anche un po' l'occasione di parlare di stampo antimafioso di cui appunto il professore Mutti è parte superattiva insomma del sito mi prima magari iniziare prima di parlare di stampo antimafioso a fare un'introduzione su quello che è il giornalismo che si occupa di temi di mafia e di antimafia noi siamo abituati a leggere un po' di tutto sui giornali e dobbiamo essere anche noi capaci di selezionare le giuste informazioni prima sto dicendo che quando affrontiamo tematiche come appunto operazioni di mafia oppure tematiche legate all'antimafia il giornalismo segue comunque delle regole delle regole basi cioè la dentologia il diritto dell'informazione i nostri diritti e doveri dei giornalisti sono sempre quelli quindi sia che ci occupiamo di cronaca giudiziaria che non c'entra niente con mafia sia che appunto ci occupiamo di temi di operazioni di appunto di mafia che hanno portato appunto degli arresti di qualche di qualche boss questo però mi preme appunto sottolineare perché insomma non è facile raccontare anche quello che succede nel proprio territorio ed è giusto farlo bene e quindi verificare fonti anche magari una volta in più piuttosto che una volta in meno prima di pubblicare pubblicare un articolo un classico esempio che si fanno quando magari si scrive di giudiziaria e al posto di indagato si scrive che è imputato beh è una cosa diversa ed è giusto appunto che il giornalista sia ben attento a queste cose ancora di più forse se affrontiamo tematiche legate al mondo appunto della mafia e dell'antimafia soprattutto anche in ragione un po' particolare come può essere la Lombardia forse dobbiamo fare due passaggi in più e potrei sintetizzarli un po' così allora fondamentale per me è conoscere il territorio quindi qua l'importanza dei giornalisti dei giornali locali che ancora di più forse delle testate nazionali che hanno sede a Roma e che magari non sanno nulla su Varese ecco conoscere il territorio è importante andiamo subito a un esempio magari esce domani un lancio di agenzia in cui ci sono state durante la notte quattro auto incendiate però se magari io vedo il lancio di agenzia scopro che queste auto incendiate sono all'Nato Pozzolo oppure non lo so a Seregno ecco io da giornalista che mi occupo del mio territorio ecco io forse quella notizia non ci metterei solo 5 minuti a scriverla ma magari mi informo un attimino meglio perché conosco il territorio cioè io racconto dei fatti che magari un fatto di cronaca veramente magari ci metto 10 minuti a scriverlo ma se io conosco il territorio mi faccio qualche domanda in più e cerco di darmi qualche risposta in più soprattutto perché so che ci sono magari dei comuni in cui sono stati coinvolti delle operazioni importanti della direzione istituzionale antimafia e che quindi richiedono maggiore attenzione quindi conoscere il territorio è fondamentale ahimè i giornali locali sono qualcosa di prezioso io vivo una redazione e vi assicuro che la mia redazione è stamiano e vi assicuro che senza i giornali locali sarebbe un problema anche per delle testate importanti che hanno un sacco di seguito un sacco di lettori la cosa che possiamo anche verificarlo è quando ci occupiamo di covid ci occupiamo di questa pandemia le foto più significative arrivano dai giornali locali perché conoscono il territorio semplice io posso fare la giornalista del corriere e stare a Roma però non potrò mai raccontare Varese come lo racconta un giornalista di Varese News questo quindi l'importanza di conoscere il territorio e il secondo magari aspetto che richiede maggiore attenzione quando si scrive di un articolo di mafia è legato al fatto di avere più curiosità possibile quando scatta un'operazione facciamo un esempio che domani magari abbiamo 50 arresti e blocchiamo altri 50 posti in Lombardia ecco la mia giornata parte con un lancio di agenzia ma si deve concludere con in mano le carte di mille pagine della direzione di struttura l'antimata perché lì sta tutto cioè a me non mi basta sapere che hanno arrestato 50 posti devo capire chi sono devo capire che cosa facevano devo capire le persone coinvolte sul territorio ed è per questo giusto farsi domande in più e capire qualcosa durante le carte un esempio che mi è successo il mese scorso per andare sul concreto mi sono occupata dell'arresto di Cosmo Vallelunga che è praticamente il boss di Ecco che avevano appunto arrestato e lui era coinvolto diciamo in un negozio di famiglia dove all'interno di questo negozio lui ospitava incontrava diciamo così altri affigliati dell'andrangheta e invitava le vittime di racket per mettersi d'accordo su appunto i vari pagamenti ecco cosa è successo il giorno dopo il legale di questo negozio giustamente ripeto giustamente perché giusto che facciano anche il loro lavoro manda una lettera in redazione così come tutte le testate che si sono occupate di questo argomento dicendo che i diciamo i titolari di quel negozio erano estranei ai fatti cioè non erano indagati ed è vero nessuno ha scritto che queste persone sono indagate quindi esce un altro articolo si fa escono altri articoli in cui si dà spazio a questa lettera dell'avvocato perché è giusto sottolinearlo però se tu hai in mano le carte tu aggiungi anche che però la direzione distrittuale antimafia dice che questo negozio ok magari il titolare non sapeva niente non lo so sarà la giustizia a dirlo e non aspettano i giornalisti però io lo scrivo che in questo negozio succedevano degli incontri tra andranghettisti perché perché manano le carte e per me le carte sono la fonte numero uno per quanto per quando ci si approccia ad argomenti di questo tipo e a questo tipo di operazioni però premetto una cosa appunto quello che avevamo dicionato prima noi giornalisti non dobbiamo mettere giudizio cioè un conto è scrivere l'editoriale che poi va sulla prima pagina del Corriere quello è un altro tipo di giornalismo e lo fa il direttore ci fa i commenti ci sono appunto commenti e opinioni ma quando io scrivo di cronaca e quando scrivo di cronaca di mafia e antimafia io devo scrivere devo scoprire più elementi possibili da far leggere il mio lettore perché comunque io mi rivolgo al lettore e il mio lettore deve cercare di capire quello che io sto raccontando sta poi al lettore farsi i suoi giudizi eccetera cioè quello che voglio dire è che noi facciamo cronaca raccontando i fatti cercando però di non mettere la nostra opinione questo quando voglio dire che quando io scrivo di questo negozio a Lecco riporto quello che scrivo all'avvocato riporto quello che scrivo alla direzione distrettuale antimafia poi io mi fermo cioè non faccio il mio parere il mio giudizio poi questo aspetterà poi alla giustizia e aspetterà al lettore perché il lettore grazie a Dio è veramente pensante e potrà appunto potrà decidere loro per quello che sono dei temi quelli legati appunto alla mafia antimafia che richiedono forse delle attenzioni delle attenzioni in più una delle parole d'ordine della mattinata che è stata anche sottolineata dalla professoressa Prest più volte è stata curiosità esatto e ne hai parlato anche tu è una curiosità però quanto intuisco che va che deve essere accompagnata da consapevolezza sì infatti il primo passaggio è io devo conoscere devo conoscere il mio territorio devo informarmi devo se voglio affrontare certi temi io devo studiare prima cioè non è inutile non puoi scrivere di certi temi senza senza sapere non so io ho fatto una tesina nell'inquinta superiore me la ricorderò sempre sulla camorra nessuno me l'aveva mai spiegato la prima lezione con il professore Nando Dalla Chiesa sono tornata a casa e ho stracciato questa tesina questa cosa la farò sempre cioè è un esempio che farò sempre perché perché sono argomenti che ovviamente bisogna studiarli e richiedono un sacco di curiosità cioè bisogna capire se io vedo un camion pieno di rifiuti che va in via Molinara a Desio e scarica nella notte in questa cava che è ancora lì cioè io da cittadino mi incuriosisco perché questi camion della notte vanno a scaricare dietro al bosco in questa cava da giornalista io ho il dovere di informarmi e non sono degli esempi peregrini perché si parla spesso di stereotipi quindi terra dei fuochi diciamo alla campagna mentre invece dal 2017 ad oggi corregioni se sbaglio il Piemonte e la Lombardia sono le regioni con il maggior numero di erodi volosi di rifiuti in tutta Italia la Lombardia è la prima regione con più reati legati appunto all'ecomafia nell'ultimo rapporto di di l'ambiente di qualche di qualche mese fa sì non cambia niente è una questione che mi ha un po' gli occhi una domanda rivolta anche invece agli studenti siccome il stampo antimafioso ha appena aperto una convenzione di stage o meglio offre degli stage per il momento all'Università di Milano e all'Università di Nilsubria com'è andata la prima prova diciamo così con con lo stage universitario ecco sì esatto grande professore insomma il sì allora ragazzi l'invito ovviamente è quello di seguire il sito di appassionarvi di incuriosirvi e se vi va appunto poi di partecipare alle nostre attività noi abbiamo una prima stagista grazie appunto al professore Musi che ha organizzato tutto che sta seguendo per noi tutta la parte dei social quindi sta seguendo Instagram sta seguendo Facebook avevamo un grande bisogno di aiuto sul fronte social e ci sta aiutando tantissimo ma ma sta imparando anche tanto tipo oggi un messaggio di oggi che ho parlato appunto con lei per organizzarci del lavoro della giornata mi dice faccio un po' di slide sul 21 marzo su cos'è su perché insomma era una proposta che è nata da lei ma si capiva che voleva anche provare a raccontare questo 21 marzo anche un po' la sua la sua idea di 21 marzo e nel frattempo informarsi anche perché alla fine impara anche tanti temi tramite appunto questo stage quindi se volete io penso che tutti possano rivolgersi al professore Muti giusto per i prossimi mesi per candidarsi se volete a lavorare un po' collaborare un po' con noi di stampo antimafioso grazie Giorgio per questa testimonianza professor Muti hai iniziato come Giuseppe e finito come professore è vero era indecisa poi ho dato cose che potete dire ma per gli altri non lo so va benissimo grazie mille Giorgia grazie buon lavoro buona giornata e ti saluto ragazzi sicuramente ancora per partecipare all'iniziativa di noi grazie mi dispiace non seguirvi non seguire gli altri ma devo scappare grazie mille a presto ti seguiremo noi grazie grazie a tutti ciao a presto possiamo riprendere invece Stefania con il programma originale quindi in questo caso con il dottor Francesco Terragno della la commissione antimafia della regione Lombardia in particolare con il tema l'antimafia civile e le reti di cittadinanza attiva in Lombardia prego dottor Terragno grazie grazie soprattutto della mattinata perché sono emersi un sacco di spunti che io mi sono segnato ed è stato veramente un bel momento di confronto di discussione di restituzione delle esperienze che poi è sempre una delle cose più importanti io come come è stato detto svolgo un'attività o meglio ho sempre questa doppia veste nel senso che la mia estrazione è quella dei movimenti antimafia di cui oggi parliamo dei movimenti civili del terzo settore anche legato all'esperienza antimafia e in questo momento svolgo pro tempore un'attività di assistente consigliare a supporto della Presidente della Commissione Regionale Antimafia bene io ho pensato un po' su rispetto a quella che era la richiesta di orientare questo intervento e alla fine ho ritenuto che fosse assolutamente opportuno offrirvi un contributo che a nostra volta ci è stato offerto come Commissione Antimafia e da CROSS dall'osservatorio sulla criminalità organizzata e gli studi dell'Università degli Studi di Milano a cui recentemente la Giunta regionale ha affidato l'incarico di comporre un monitoraggio sull'antimafia sociale in Lombardia recentemente presentato e devo dire che sia nel corso della presentazione sia poi approfondendolo ho assolutamente ritenuto che fosse centratissimo per questa nostra mattinata di discussione e quindi la finalità di questo intervento che sarà breve mi riprometto di stare nei dieci minuti e potrebbe essere una prima analisi sulla diffusione sulle caratteristiche dell'impegno antimafia espresso di pronte a quella che è l'aggressione che le organizzazioni mafiose segnatamente l'andrangheta come veniva già detto stanno conducendo nei confronti della società dell'economia e delle istituzioni lombarde bene può essere utile credo isolare una serie di considerazioni generali per sottolineare alcuni dei problemi e alcune delle evidenze positive che emergo da questa domanda ecco da quella domanda di esplorare il movimento antimafia in Lombardia in particolare ne indicherei quattro la prima riguarda lo stato complessivo del movimento antimafia il monitoraggio che vi citavo quello sull'antimafia sociale elaborato dall'osservatorio sulla criminalità organizzata consegna un'immagine incoraggiante della situazione lombarda e effettivamente è un'immagine che dal mio osservatorio dall'osservatorio della presidenza della commissione antimafia rilevo e confermo e tanto che agli occhi di chi osserva questo mondo si fa largo una prospettiva secondo cui la convinzione che la regione esprima uno dei movimenti antimafia più sensibili più colti più floridi più attivi del paese è una sensazione corretta fa sicuramente il paio con la Sicilia in questo però consideriamo sicuramente questa ricerca ce lo conferma il movimento antimafia in Lombardia ricco caratterizzato sicuramente da squilibri territoriali da squilibri settoriali ma fondamentalmente appunto come dicevo forte generatore di nuove energie culturalmente molto diciamo trasversale diversificato e dotato anche di un certo seguito istituzionale di molte sponde istituzionali che soprattutto nell'ultimo dicemio sono maturate e quest'ultima è una condizione assolutamente necessaria ovviamente non sufficiente per arginare ed eventualmente respingere l'aggressività e la costanza dell'iniziativa mafiosa Expo 2015 ha registrato sotto questo profilo un discreto successo un successo e in particolare sui tentativi dell'Andrangheta di infiltrare i lavori di Expo è stato sicuramente utile lo stimolo continuo che il folto tessuto di associazioni antimafia hanno promosso nei confronti delle istituzioni locali che a loro volta hanno messo in campo degli strumenti abbastanza efficaci mi riferisco in particolare al comitato antimafia del comune di Milano un organo tecnico scientifico a supporto della loro sindaco Pisapia che aveva il compito di monitorare tra gli altri che aveva tra gli altri il compito di monitorare le attività che gravitavano intorno a Expo e relazionare direttamente al sindaco bene questo sicuramente è il frutto anche della sensibilità personale del sindaco di allora dell'amministrazione di allora e non c'è dubbio ma senz'altro c'è anche un forte contributo del clima che si è generato in città e che ha posto in una buona luce nel dibattito pubblico le iniziative delle associazioni e vado un po' veloce riprendo subito da dove avevo lasciato vi stavo proponendo quattro considerazioni che ritengo significative per descrivere nel suo insieme il movimento antimafia in Lombardia e le esperienze civili la seconda considerazione che vi vorrei proporre riguarda diciamo il ritardo il dubbio ritardo del mondo dell'economia e delle professioni la questione è rilevante nel senso che è un ruolo questo decisivo che questo mondo può giocare nel favorire o viceversa ridurre le opportunità di penetrazione e di espansione delle organizzazioni e delle imprese mafiose tanto più rilevante vista la maggiore fragilità che può derivare a questo mondo dall'inasprimento in corso dovuto alla crisi pandemica e alla conseguente crisi economica si tratta di un tema ampio generalmente diciamo ricondotto al concetto elaborato dalla chiesa di zona grigia che gli studi recenti cercano di approfondire sotto diverse prospettive in questo senso rilevo questo ritardo in contrapposizione invece al ruolo che nel movimento antimafia in Lombardia e non solo in Lombardia decisivo che hanno giocato altre agenzie di formazione prima per tutte le scuole che sono il vero la vera ossatura del movimento antimafia che hanno realizzato e condotto iniziative di qualità altissima da ben prima che tutti gli altri arrivassero e per tutti gli altri intendo principalmente le principali istituzioni locali e territoriali e quindi insomma ritengo davvero che un forte impulso in più potrebbe essere dato a questo mondo che pure ho dipinto come colto ricco e soddisfacente da un impegno più deciso e più corale delle associazioni di categoria e dei mondiali professioni in terza battuta emerge sempre dal rapporto che vi sto citando che è quello di Cross lo ripeto ancora che è consultabile credo sia il loro sito al sito istituzionale dell'Università Statale di Milano emerge bene un chiaro quadro di contraddizioni tra il livello di rischio mafioso e il livello di risposta dell'antimafia una prima forma di questa contraddizione viene segnalata efficacemente in una mappa che troverete posta chiusura della seconda parte di questo rapporto che indica nelle diverse province o aree geografiche lombarde il tasso il grado di presenza mafiosa con un indice da 1 a 5 e viceversa l'attività del movimento antimafia su questo c'è lo squilibrio territoriale che citavo all'inizio e quindi c'è un ruolo davvero non voglio dire gemone ma davvero forte molto forte di Milano che ha incubato smaturato una varietà anche di espressioni di questo movimento antimafia e io mi sono molto stupito nel diciamo questo è un mondo che io frequento quotidianamente sia per passione ma anche per dovere per dovere derivante dal mio lavoro e io mi meravigliavo di continuo della varietà della numerosità delle declinazioni di questo impegno le arti visive ciò che hanno fatto i teatri ciò che hanno fatto vi ripeto le scuole è un elenco che non finisce mai bene in questo quadro su Milano c'è questo primato assoluto c'è una certa capacità della della provincia di Monzebrianza di dare risposte simili perché questo perché è stata la provincia che diciamo fino a cinque anni fa e per i quindici anni precedenti è stato il territorio maggiormente interessato dal fenomeno che giustamente veniva ripreso più volte in questa mattinata che è quello di colonizzazione mafiosa e stiamo notando ora un certo spostamento di queste dinamiche tradizionali che registravamo in Monzebrianza verso il Comasco devo dire che il Comasco è un'area a sua volta ricca di esperienze civili e esperienze riconducibili ecco a questo movimento antimafia che nel complesso consideriamo molto valido questa che stiamo andando grazie mille Giuseppe è una manifestazione proprio di ieri in consiglio regionale che ci ho pensato quando hai nominato le arti visive grazie è stata fatta anche all'insubra non molto tempo fa proprio dei giovani pensatori ed è uno strumento di coinvolgimento davvero emozionante guarda l'unica parola che mi viene sì ma paradossalmente noi eravamo tutti terrorizzati dal settimana della legalità del 2020 quella che diciamo è saltata a pie pari perché eravamo nel primo sconvolgente lockdown eravamo tutti terrorizzati che una seconda riproposizione di questa modalità da remoto potesse fortemente indebolire le tradizioni e la capacità del movimento antimafia di riunirsi ritrovarsi e attraverso questo rafforzarsi devo dire invece che questo tipo di esperienze hanno avuto una capacità di diffusione e di attenzione da ogni livello associativo e istituzionale veramente inaspettato e travolgente che io ritengo abbia veramente colmato forse del tutto questa questa nostra mancanza e questa nostra impossibilità di trovarci nelle piazze e di trovarci nei luoghi che sempre abbiamo frequentato portando le nostre idee le nostre passioni arrivo subito alla quarto punto che vorrei proporvi per andare a chiudere perché ritengo che merita infine di essere segnalato in questo quadro diciamo problematico per gli aspetti che problematicamente vi ho esposto e invece virtuoso per la parte relativa alla crescita del movimento antimafia proprio il nuovo ruolo delle istituzioni che è cambiato sicuramente forse lo spartiacco è stato crimine infinito è stata l'operazione crimine infinito cioè quell'operazione che ha scoperchiato il sistema dell'andrangheta in Lombardia che ci ha restituito un'immagine che veramente diventava incontestabile anche per i più riduzionisti o addirittura per i negazionisti e quello forse è stato davvero un momento di grande presa di consapevolezza comune ma non è stato solo quello ritengo che i fatti legati all'omicidio di Lagarofalo abbiano profondamente segnato la città di Milano e la Lombardia ritengo che anche il caso citato in apertura da Giuseppe Mutti della Sessore Zambetti abbia sconvolto una buona parte anche dei segmenti di classe dirigente che gravitano intorno alla regione al sistema di amministrazione regionale e ritengo dunque che l'insieme di queste esperienze e di questi vissuti abbia progressivamente consegnato alla regione Lombardia nel suo insieme sempre come ruolo di traino probabilmente del capoluogo di regione una attenzione di tutti i livelli istituzionali un coinvolgimento anche di tutti i livelli istituzionali anche in ottica di come molto opportunamente ha citato in apertura questa mattina Giulia Tiberi di coprogrammazione di coprogettazione di accreditamento abbia saldato proprio un'alleanza civile fra diversi livelli istituzionali e le espressioni migliori del movimento antimafia mi riferisco in questo alle prefetture mi riferisco in questo alle amministrazioni comunali alla regione stessa che si è dotata di una commissione antimafia che investe risorse e ricerca su questo fenomeno tutti gli anni che ha si è progressivamente conquistato un ruolo in questo bene questo sicuramente è un punto di straordinaria virtù del movimento antimafia e anche delle istituzioni lombarde il rischio e qui veramente chiudo che vedo e che diciamo ritengo opportuno si vigili su questo è che a questo punto diciamo a questo punto di interconnessione programmatica e anche ideale dei livelli istituzionali del movimento antimafia a questo punto di compenetrazione di queste due esperienze di queste due forze sociali bene all'interno delle istituzioni debba non debba questo essere legato al alla sensibilità del momento e all'indirizzo politico del momento cioè noi dobbiamo assolutamente pretendere dalle istituzioni che queste si dotino di persone capaci di leggere questi processi sociali di comprenderli di parteciparvi e se ne è capace anche di guidarli in certe circostanze questo è credo un'esigenza forte che emerge da questo percorso di crescita che abbiamo alle spalle lungo dieci anni e che è probabilmente la sfida dei prossimi dieci grazie Francesco grazie molte a voi non ci farò ulteriori domande anche perché siamo veramente no no certo ho un'osservazione Giuseppe un'osservazione soltanto sottolineiamo quanto la scuola in questo caso con l'Insoliamo Milano ha dato l'opportunità ancora una volta di riflettere su alcuni personaggi importantissimi che sono stati vittime di mafia che sono stati però emblemi della storia dell'antimafia e quindi questo grazie alle immagini tra l'altro che ci ha mostrato il professor Muti siamo riusciti ad avere anche per i nostri ragazzi che ci stanno seguendo un esempio chiaro l'ultimo di questa espressione ma in realtà noi siamo costellati da tutta una serie di esperienze di questo tipo e quindi grazie anche al mondo dei docenti di tutti gli ordini e gradi e indirizzi perché questo è possibile grazie a loro la scuola detiene un primato assoluto in questo allora la dottoressa Antonella Bonopane dell'associazione Libera con le pratiche organizzate di cittadinanza attiva e veni confiscati alle mafie prego allora avevo preparato una serie di slide ma preferisco passare ad un altro approccio che è questo ho sentito gli interventi precedenti e giustamente tutto è molto sottolineato l'aspetto del conoscere dell'informarsi del conoscere dell'andare a fondo di raccogliere dati e questo è inesorabilmente il punto da cui partire per tutti e per tutto tra l'altro i fenomeni mafiosi tendono a nascondersi tendono a inabissarsi quindi conoscerli non è affatto semplice abbiamo sentito anche il giornalismo come è complicato e però io adesso voglio mettere un'altra parola a questo nostro incontro che è quello di sentirsi parte questa è stata la mia esperienza in Libera prima come semplice socia come semplice attivista e poi via via come coordinatrice provinciale di Libera Varese e il pensiero diciamo così che oggi voglio portare qui e che voglio davvero indirizzare anche ai ragazzi che ci ascoltano è che per fare antimafia ci vuole anche il cuore oltre che la testa e così è nata Libera nel 1994 dopo il periodo diciamo delle stragi lo stragismo mafioso nel nostro paese si ricordano solo Falcone e Bostellino ma purtroppo è lungo un elenco che il 21 marzo verrà letto pubblicamente e dopo quella grande ferita nel nostro paese tutto ha ripreso cuore in qualche modo ha ripreso passione perché le persone si sono sentite chiamate direttamente in causa per dire a loro modo a partire dal basso un no alle mafie allo strapotere delle mafie quindi Libera nasce proprio da questa sollecitazione da sentirsi parte del proprio territorio e del vissuto anche del proprio paese perché in quel momento era tutta l'Italia essere sconvolta da quelle stragi e quando nel 1995 Libera poi si fonda penso lo sappiate tutti ma Libera è un'associazione di associazioni cioè ha l'ambizione di mettere insieme i livelli già strutturati dell'associazionismo attorno ad un unico scopo che è quello di fare antimafia dell'antimafia del fare il mondo della scuola e gli insegnanti sono stati la spina dorsale di questo primo movimento e da lì proprio è nata una storia che ormai ha oltre 25 anni che vede Libera impegnata su tanti fronti quello della memoria dell'impegno avremo la nostra giornata della memoria dell'impegno il 21 di marzo ma anche quello del tema della giustizia della giustizia sociale sono molte le campagne che Libera fa da questo punto di vista negli ultimi 5 anni c'è stato un impegno molto grande di Libera sui temi della povertà con la campagna misura ladra oppure riguardo alla salute pubblica e alla corruzione in ambito sanitario come illuminiamo la salute un'altra grande campagna che c'è stata nel 2013 io reattivo il lavoro sul tema del lavoro legale del lavoro del giusto insomma tante tematiche di tipo sociale di giustizia sociale e poi il grande tema dei beni confiscati di cui vi parlerò tra un attimo ma l'introduzione del professor Mutti mi ha fatto ricordare una storia che voglio brevemente raccontarvi che è quella di Emanuele Riboli il professor Mutti ha detto che il nostro territorio dagli anni 70 è molto insomma non infiltrato ma purtroppo colonizzato purtroppo assolutamente permeato dalla presenza dell'andrangheta in Lombardia e nella provincia di Varese la famiglia Zagari per alcuni anni ha vissuto in un paesino alle porte di Varese che si chiama Bugugiate e io ho conosciuto la storia di Emanuele Riboli solo nel 2015 è una storia che ha come data il 14 ottobre del 1974 siamo negli anni 70 negli anni dei sequestri di persone a scopo estorsivo di cui la mafia ovviamente si serviva siamo negli anni del grande traffico di droghe eccetera bene Emanuele è un ragazzo di 17 anni poco più grande di chi ci ascolta oggi una sera tornando in bicicletta dall'istituto Ipsia di Varese seguiva un corso serale viene rapito a scopo estorsivo perché suo padre è un imprenditore un piccolo imprenditore della zona le mafie in quel momento sopravvalutano diciamo la capacità economica di questa famiglia e viene chiesto un riscatto di un riscatto di un miliardo di lire ovviamente la famiglia non è in grado di pagarlo inizia una trattativa che pare dovesse andare a buon fine debba andare a buon fine e invece le cose si complicano e Emanuele viene ucciso avvelenato e dato impasto ai maiali perché non si possa trovare il suo cadavere circa due mesi dopo il suo rapimento vi racconto questa storia perché per chi abita a Bogugiate lo so è forte adesso in questo momento ma per chi vive oggi a Bogugiate un ragazzo come voi che magari fa l'università in Subria che si sposta conosce il suo territorio come un paese tranquillo bello ricco anche insomma della piccola imprenditoria che ha caratterizzato un po' la nostra zona e però c'è anche un'altra storia dentro quella comunità c'è una storia che arriva dagli anni 70 e che non è finita arriva ancora ai giorni nostri noi questa storia di Riboli la sappiamo semplicemente grazie a un collaboratore di giustizia che dentro un processo racconta anche tutti i risvolti insomma veramente brutti di questa storia e però nei confronti di Riboli lo Stato non è riuscito a dare una parola definitiva non ci sono dei responsabili che hanno pagato per questa vicenda perché nel 2014 poi si è chiuso definitivamente il processo ma sono andati in prescrizione tutti i reati dei responsabili questa storia è tornata ad essere presente grazie ad un libro che vi consiglio di leggere che si chiama Il male accanto di Massimiliano Comparino che è un bugiapese e lo racconta perché ama il suo territorio solo sentendosi parte di quella comunità ha potuto capire cosa ha voluto dire quel sequestro dentro quella comunità non solo per la famiglia Riboli ma per tutta la comunità di Bugiapero fino con un filo rosso dal 1974 oggi a 2021 quando il nome di Riboli risuonerà il 21 marzo nel nostro ricordo ora invece uso i 3-4 minuti che ho ancora a disposizione per parlarvi di beni confiscati alle mafie allora sapete che uno degli impegni di Libera è proprio questo dal 1996 comincia la storia della legge 109 proprio sulla confisca e il riutilizzo sociale dei beni confiscati questa legge ha una storia piuttosto tormentata sia all'inizio che poi di tutto il suo proseguimento però è una legge che ha dato tanti buoni frutti intanto ha fatto emergere questo tema della confisca dei beni e della possibilità di un riutilizzo sociale solo per darvi qualche numero dal 1982 perché i beni vengono confiscati già da prima della legge sono 36.616 i beni confiscati alle mafie quindi sono tantissimi e questo dà proprio il calibro di quanto le mafie accumulino ricchezze stiamo parlando di beni immobili accumulino ricchezze non solo non perché la finalità delle mafie sia accumulare ricchezza ma perché così si controlla il territorio vivendoci facendo impresa illegale infiltrandosi nell'impresa nella imprenditoria legale creandosi una serie di legami anche con la politica locale ovviamente ma con tutte le strutture proprio amministrative locali e dopo le quattro regioni che ovviamente storicamente hanno conosciuto questo fenomeno viene la Lombardia come beni confiscati alle mafie a questo proposito se volete dei dati aggiornati li trovate sul sito della NBSC che è l'agenzia nazionale che gestisce ormai da qualche anno questi beni e c'è un bel sito che si chiama Open Regio in cui potete proprio geolocalizzare questi beni sapere innanzitutto quanti ce ne sono per esempio in provincia di Varese eccolo qua questo è confiscati bene sì ma Open Regio funziona alla stessa maniera e ci dice proprio che in Lombardia ci sono 1965 beni in gestione e 1242 sono destinati cioè hanno terminato il loro iter di legge appunto e vengono riutilizzati in modo sociale per tornare invece alla nostra provincia i beni in gestione sono 120 i beni destinati sono 103 e la città di Varese ne ha 63 in questo momento voi capite che questi dati sono addirittura più aggiornati che quelli che ci stanno ci stanno mostrando cioè i numeri sono un po' più alti i dati della NBSC sono più o meno del 2019 sostanzialmente siamo in presenza di un grande patrimonio ma come la società civile può entrare in relazione con loro sì è vero c'è una legge ci sono i comuni che sono gli enti principali che possono fare la richiesta di avere in modo che il bene venga sganciato dal demanio pubblico all'amministrazione locale però poi c'è la grande incognita di come riutilizzare questi beni con quali soggetti lavorare e cosa farci sopra e questa è la sfida della mia associazione anche noi abbiamo avuto il compito sul territorio di monitorare ovviamente di fare una mappatura dei beni confiscati di fare un'azione di stimolo nei confronti delle amministrazioni locali proprio in tema di beni comuni un monitoraggio sui bandi regionali e nazionali che possono aiutare le associazioni che hanno voglia di parteciparli a questi bandi e proporsi con dei progetti con delle attività con delle azioni di scopo sociale si intende e poi un'azione di informazione e di promozione come quella che per esempio stiamo facendo stamattina è una bella sfida per tutti Varese ha avuto negli anni le sue difficoltà i Varesini non conoscono molto bene questa realtà non sanno neanche come sono biograficamente collocati spesso abbiamo proprio una ma non è non è non per cattiveria ma per semplice in questo caso veramente disinformazione e quindi la prima la prima importante operazione è conoscere questo sì e sapere che esistono questi beni che possono essere utilizzati e che ci sono anche degli strumenti fra l'altro la regione Lombardia è in uscita con un bando molto cospicuo sulla gestione dei beni confiscati ne aveva fatto un anno fa adesso si ripropone per farlo se ne è appena chiuso uno di interesse nazionale e quindi è un lavoro importante di monitoraggio perché vedete non c'è niente di più simbolico che prendere un bene che è stato realizzato con il malaffare della criminalità organizzata e farlo diventare un luogo dei cittadini sopra il quale si fa buona buona prassi quindi dove c'è lavoro pagato dove c'è socialità dove c'è servizio al cittadino eccetera eccetera è un elemento importantissimo per fare proprio quella che è la antimafia del fare che ricordava anche Stefania con cui davvero abbiamo collaborato in tante occasioni ancora parte una domanda certo come dicevi giustamente adesso le mafie tendono a trasformare i diritti di cittadinanza in favori e da questo punto di vista come hai sottolineato quindi i beni confiscati hanno uno straordinario valore simbolico e a fianco ne hanno uno straordinario anche pratico economico proprio perché si tratta di beni che possono ritornare ad un'economia funzionante quale può essere il ruolo degli studenti dei neolaureati e dei giovani che si affacciano in questo su questo mondo allora secondo me può essere di due tipi da una parte essere portatori di idee cioè realizzare progetti tentare di far emergere bisogni dal basso perché i giovani e i giovanissimi possono avere bisogni differenti da quelli che le associazioni hanno presenti io come Libera mi interfaccio con associazioni di vario tipo del volontariato socio assistenziali però loro hanno dei target molto definiti invece i giovani e i giovanissimi hanno dei bisogni importanti per esempio a Milano molti anni fa è stata confiscata una discoteca che non era solo una discoteca che in verità era un nightclub e dove fra l'altro si facevano molte riunioni di indrangheta era un luogo anche proprio dove si prendevano decisioni importanti per tutta la regione dopo la confisca è stata realizzata in quella struttura una sala prove per fare musica per i ragazzi secondo me è un elemento importantissimo perché è venuto incontro ad un bisogno che è quello delle band locali più piccole insomma non di chi fa musica in modo professionistico ma di chi lo fa per piacere per avere un luogo dove andare a provare non disturbare il resto della cittadinanza perché è sempre un problema e nello stesso tempo farlo in un luogo che era nelle mani della criminalità organizzata cioè i giovani possono essere anche veramente creativi in questo lanciare idee nuove sui beni che scardinino anche l'idea che se non ci si realizza il centro sociale oppure l'ambulatorio medico non è una visione sociale no è una visione sociale anche quella dei giovani non so se hai risposto alla tua domanda assolutamente sì quindi andrei a descrivere prima avevo scritto fra le parole chiave curiosità adesso segnerei anche rispetto a una società sempre più individualista e atomizzata segnerei anche associazionismo quindi fare rete assolutamente fare rete e sentirsi parte cioè farsi smuovere anche da quello che c'è intorno a me da come io conosco il mio territorio le persone che ci abitano certo guidati dalle domande dall'informazione ma anche guidati da una parte di cuore di sentimento insomma prendersi carico no grazie Antonella per questa preziosissima testimonianza vi spedisco la mia presentazione così se la volete mettere sul sito ci sono anche riferimenti di Libera Varese se qualche studente ci vuole contattare assolutamente e ti aspettiamo al laboratorio geografico sulle mafie subito dopo Pasqua grazie molte grazie a te grazie mille allora mettiamo insieme due espressioni ricorrenti di questa rete che abbiamo passato assieme da un lato territorio e dall'altro come appena detto Francesco Terraneo le espressioni migliori dell'antimafia civile l'ultimo caso è davvero significativo proprio da questo punto di vista abbiamo con noi il dottor Stefano Morara che è il responsabile dell'associazione Civitas Virtus un'associazione operante soprattutto che nasce nella zona 9 di Milano e nasce come espressione come resistenza territoriale in maniera spontanea non mediata quindi se vogliamo è davvero il fra virgolette dulcis in fondo quindi l'espressione più in qualche modo elevata di questo tipo di resistenza civile di cui stiamo parlando Stefano ci sei? sì ci sono ci sono grazie per aver resistito fino adesso devo solo fare devo solo fare una piccola devo solo mettermi un po' in contraddizione con te perché sentirmi parte della parte migliore o cose di questo tipo francamente mi mette in imbarazzo e tra l'altro è anche un po' opposto al nostro modo di sentirci ti ringrazio moltissimo ma era un'opinione personale era uno sguardo diciamo così grazie ma in realtà noi siamo una piccolissima associazione che è nata appunto a livello territoriale e mi sembra mi sento così di poter aderire al vostro invito di esprimere qui quello che abbiamo un po' fatto perché potrebbe essere un piccolo spunto per altri anche perché è una storia un po' che nasce in una maniera un attimino più alternativa rispetto ad altre in pratica la mia associazione che ho fondato e che sono presidente si chiama Civitas Virtus è nata sostanzialmente dalla indignazione di una ragazza e dall'ascolto e dalla reazione di genitori perché discutendo c'era stato qui nel nostro territorio un gravissimo attentato di tipo di stampo mafioso anche se poi le immagini non hanno mai portato a nessun risultato che è stato l'incendio dolore di un palazzetto comunale l'attentato più grave che sia mai stato fatto a Milano di questo tipo e dopo che ci sono state un po' di manifestazioni ovvie tutto quanto si è un po' morto nel silenzio nella difficoltà anche di parlare di questa cosa e parlo di un territorio come quello in cui vivo che in realtà ha una lunga tradizione di struttura sociale molto forte ciò nonostante si parlava poco di questa cosa una sera parlando in casa ho riportato dopo qualche tempo questo tipo di episodio e mia figlia si è indignata si è indignata si è arrabbiata moltissimo questa questa rabbia mi ha proprio colpito e ne ho parlato con degli altri genitori con cui condiviamo anche l'attività a livello della scuola e anche riportando anche la loro la sensibilità dei loro figli abbiamo pensato che l'indignazione di un ragazzo non può essere assolutamente lasciata cadere perché l'indignazione di un ragazzo allora a quell'epoca mia figlia era al liceo significa che è stato colpito un punto molto delicato un punto delicato che corrisponde un po' alla messa in crisi di quelli che sono i suoi sogni le sue prospettive di realizzazione di sé e quindi abbiamo pensato di dover in qualche maniera reagire e per me reagire poteva essere solo uno cioè dare un esempio niente di più che dare un esempio solamente questo ma questo ha fatto sì che il modo in cui è nata questa associazione ne ha determinato anche un po' lo stile il tipo di impostazione e cioè che prima di tutto noi associati non andiamo ad insegnare ad altri che cos'è la mafia perché la mafia c'è qui intorno eccetera noi andiamo prima di tutto ad imparare noi vogliamo capire capire perché poi quelli intorno a noi non ne parlano non ne parlano in maniera non ne parlano assolutamente volentieri e interagendo con i ragazzi invece abbiamo voluto di nuovo non andare a riportare esempi a insegnare che cosa è cosa non è la mafia cosa fa cosa non fa quanto abbiamo voluto cercare di far emergere in loro stessi quello che le loro aspirazioni in qualche maniera li portano a vedere come la libertà di espressione sia elemento essenziale del loro futuro perché per un ragazzo che ha la naturale tendenza a proiettarsi in futuro e di sviluppare i propri sogni di proiettarsi in quelli che sono i suoi desideri e la realizzazione di questi desideri la libertà è assolutamente fondamentale la libertà di poter fare e questa quello che in qualche maniera insegniamo in loro è che la libertà è collegata al rispetto delle regole regole che non vengono solo imposte dall'altro dall'alto ce le dobbiamo costruire insieme ma questa combinazione di libertà e rispetto alle regole è l'elemento che permette a loro di crescere cosa che non è permessa ai ragazzi figli di famiglie mafiose il cui destino è bruciato è assolutamente chiuso da ogni parte così come è chiuso il destino di chi convive nel proprio territorio con la mafia ma a noi non vogliamo creare elementi di contraposizione e conflitto a noi interessa soprattutto fare in modo che i ragazzi riescano a concepire dentro di sé quello che i propri sogni gli devono portare a fare sviluppare quindi la richiesta di avere libertà e rispetto delle regole intorno a sé questo ovviamente accompagnato da una crescita sulla conoscenza di quella che è la struttura mafiosa e che cosa comporta quella presenza nei nostri territori perché questo è l'elemento fondamentale e quindi in questo senso accompagnare i ragazzi in questo senso e aumentare la conoscenza nostra e dei ragazzi è quello che ci ha portato a fare anche a fare anche un'altra 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 iniziativa che abbiamo portato avanti uno studio in collaborazione con il dipartimento di sociologia dell'Università di Torino in particolare con il professor Sciarrone e ci ha fatto fare una indagine capillare nella infiltrazione o presenza della criminalità organizzata nel mondo economico e nel sistema economico della zona che poi è costituito essenzialmente da commercianti e siccome poi questa questa indagine è stata fatta in maniera capillare su tutta la zona 9 quello che è il municipio 9 ha di fatto costituito il primo elemento di verifica della presenza dell'Andrangheta della mafia e delle mafie in particolare dell'Andrangheta nel tessuto cittadino tanto che poi questa indagine ha avuto anche un notevole riscontro dal punto di vista della presenza nei media sia locali che che non e quello che abbiamo potuto vedere sono innanzitutto che i commercianti sono ben coscienti del fatto che la mafia crea le mafie creano dei gravi danni all'economia e poi si evidenzia anche che sono ben coscienti e molto diffusa in città e quindi la temono molto da cui abbiamo voluto anche capire quali sono le cause e come si può sconfiggere questo tipo di criminalità e non sorprendentemente i commercianti hanno debitato come una delle cause maggiori della presenza delle mafie in città la corruzione la corruzione a livello sia di sistema economico sia di sistema politico e amministrativo e qui mi ricollego a un risultato interessante che abbiamo avuto anche proprio dalle scuole da quello che i ragazzi hanno in qualche maniera espresso come coscienza della della presenza e dell'essenza della mafia perché alla fine frequentemente facciamo sempre una giornata conclusiva dico solo che questo tipo di attività ci ha portato veramente ad entrare in contatto con moltissimi ragazzi qui nella nostra zona ci siamo partiti da un numero all'inizio da un numero di cinque classi che derivano fino ad averne più di trenta e questo senza fare nessuna pubblicità perché altrimenti non riusciamo neanche a reggere il livello delle richieste ed è interessante quello che i ragazzi dicono di quello che hanno percepito anzi quello che hanno sviluppato come coscienza dentro di sé stiamo parlando di ragazzini delle medie in questo caso non ragazzi ancora più grandi stiamo parlando di ragazzi di seconda e terza media alle domande cosa è la mafia dove è la mafia o perché esiste la mafia vengono fuori delle risposte come la mafia esiste dove c'è il silenzio la mafia è in un minuscolo angolo del nostro cervello oppure la mafia esiste perché c'è l'illegalità dove è importante ribadire che la mafia esiste perché c'è l'illegalità non il contrario e qui si torna al problema della corruzione di cui parlavo prima con di cui sono ben coscienti i i commerciani e quindi qui abbiamo voluto anche chiedere ai commercianti sulla base della loro esperienza che cosa potesse far sconfiggere se era possibile far sconfiggere la mafia alle solite risposte ovvie naturali ma anche del tutto legittime una richiesta di maggior sicurezza di sicurezza della certezza della pena e maggior presenza di polizia in giro cose abbastanza naturali ovvio c'è stata un'altra risposta molto molto interessante e cioè la richiesta rispetto dell'arredo urbano che rappresenta agli occhi del professor Sciarrone una richiesta di evidenza della presenza di un'amministrazione efficiente che è esattamente il contraltare il contrapposto il contrario di un'amministrazione corrotta ed è quindi questo il punto centrale che in qualche maniera con cui ci siamo incontrati e che è un po' anche la conclusione del nostro agire che ovviamente non è contro la mafia noi siamo per che ci sia uno sviluppo di cittadinanza attiva nel momento in cui c'è una responsabilizzazione da parte degli individui naturalmente si arriva ad una riduzione di questo tipo di fenomeni e quindi però qui oltre che a livello individuale che è essenziale e di cui si vede in questo momento di pandemia anche una corrispettivo è la responsabilizzazione individuale che ci può aiutare è fondamentale nella lotta alla pandemia così anche la responsabilizzazione individuale è fondamentale nella costruzione di una società più libera più giusta più democratica e ovviamente quindi meno corrotta e con meno mafia ma a questo deve fare da contraltare una cosa che è stata anche detta dagli altri prima di me e cioè la responsabilizzazione delle istituzioni che devono sapere creare fiducia devono essere in grado di porsi l'obiettivo di mettersi al servizio del cittadino perché questo è il compito lo Stato non deve fare il cane da guardia deve mettersi al servizio per creare quel circolo virtuoso che poi permette anche ai cittadini di dare il meglio di se stessi scusatemi spero di non essere stato troppo lungo si è stato perfetto Stefano e mi sembra che tu abbia fatto emergere un altro elemento ovvero la necessità delle istituzioni del dialogo con le istituzioni con istituzioni che siano fondate su un reale meccanismo democratico esattamente ti ringrazio Stefano per questa tua preziosissima testimonianza e siamo davvero in chiusura abbiamo scorato da tutti i punti di vista ho un'ultima cosa dottoressa prest proprio in chiusurissima un'altra parola chiave che è emersa proprio grazie alla testimonianza di Stefano Morara è cura se noi lavoriamo sulla cura la cura della nostra area urbana il fatto di trovare un'area urbana curata ben curata dove la presenza dell'amministrazione si evidenzia attraverso la bellezza dell'area urbana l'ordine la pulizia le aree verdi la cura delle facciate anche dei palazzi delle case significa che c'è punto dell'amministrazione quindi c'è la presenza di una cura che è ordine e che è in qualche modo sostegno un sostegno attivo dove c'è bellezza non c'è in questo caso dove c'è bellezza dove c'è cura dove c'è attenzione non c'è la presenza così massiccia della della mafia questo in un confronto anche con il professor Ranando dalla Chiesa diversi anni fa prima ancora di avviare il percorso che ha condotto alla commissione legalità era questo come in uno stato così bello come il nostro possa generarsi una realtà così terribile come l'organizzazione criminale in questo caso noi abbiamo un paese bello molto bello ma è anche un paese poco curato e quindi noi dobbiamo pensare che a quella bellezza noi dobbiamo contribuire costantemente con la formazione dei giovani alla bellezza e alla bellezza da qui l'articolo 9 che è per noi della commissione legalità la preghiera laica e che è per noi anche della commissione legalità importantissima la collaborazione costante con i giovani ricercatori di cross che è stato nominato più volte in particolare per l'ambito proprio dei laboratori filosofici di settore anche con i ragazzi della scuola media proprio riconfermando la posizione di Stefano Morara è proprio quello aperto con Mattia Maestri già diversi anni fa all'interno dell'istituto salesiano di Varese questo consente alla commissione legalità di lavorare in sinergia con cross con una professionalità laboratoriale formativa ad altissimo livello e con la possibilità in questo caso di mostrare ancora una volta ai ragazzi che si può cambiare il modo di pensare e che le armi sono appunto il civismo le istituzioni la democrazia la verità la responsabilità e la libertà intesa come responsabilità un principio di realtà per affrontare i problemi per cercare in questo caso insieme di risolverli nel nostro piccolo grazie davvero per questa opportunità io cedo subito la parola a Michela per le conclusioni della giornata perché in realtà questa sessione dedicata all'antimafia non ha conclusioni è un inizio tra mezz'ora avremo il laboratorio geografico sulle mafie e da questo momento in poi potremmo fungere in qualche modo da terno di attenzione all'interno dell'Ateneo proprio perché tra le istituzioni c'è anche l'università c'è anche la scuola quindi grazie a tutti e a tutti e grazie a te Michela in particolare sono io che devo ringraziare lo faccio a nome di tutta la commissione placement e dell'ufficio orientamento e placement perché è stata una sessione assolutamente interessantissima che gli argomenti sarebbero stati interessanti questo ce lo aspettavamo voglio dire bastava leggere i titoli e il titolo stesso della sessione lo diceva però secondo me è quello che è apparso tra le righe degli argomenti che è stato anche incredibilmente coinvolgente la domanda che c'era stata a un certo punto come faccio a capire se sono adatto a lavorare per il terzo settore ecco io penso che le voci delle testimonianze di oggi hanno chiaramente messo in luce quali sono le caratteristiche che cosa devi cercare dentro di te se vuoi lavorare in un ambito come questo che è l'ambito della cura perché il terzo settore è l'ambito del volontariato delle associazioni no profit e della solidarietà della cura dell'altro del guardare oltre del futuro io ho trovato tutto questo incredibilmente stimolante io sono anche vicepresidente di una fondazione provinciale la fondazione provinciale della comunità comasca ed è qualche mese fa abbiamo aperto il abbiamo aperto un fondo è stato istituito un fondo che è il fondo Cristina Mazzotti e immagino che chi si occupa di mafia abbia esattamente chiaro di che cosa si tratta e quindi sono particolarmente sensibile a queste tematiche che avete toccato non solo è un inizio della giornata di oggi ma io spero sia un inizio nei mesi e negli anni a venire mi piacerebbe che queste new career opportunities raccontassero tante altre sfaccettature del terzo settore perché come avevo detto all'inizio noi oggi abbiamo potuto toccare alcune raccontare cos'è il terzo settore poi toccare alcune esperienze quindi vi ringrazio veramente di cuore è stato entusiasmante e dico a tutti coloro che ci stanno seguendo che tutti i contributi saranno pubblicati sul sito quindi ci sarà modo anche all'interno delle scuole delle classi o quant'altro di rivederli parlarne discutere anche di contattare direttamente gli speaker per poter approfondire argomenti di interesse e secondo me questa è una grande bella opportunità e ovviamente ringrazio il servizio tecnico che ha fatto i salti mortali oggi ci siamo impegnati tantissimo a farvi diventare matti devo dire non ci eravamo riusciti l'altra volta ci siamo riusciti oggi quindi grazie 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 a tutti quanti veramente grazie a tutti ciao a presto grazie infinite di nuovo grazie grazie Giuseppe grazie arrivederci a tutti grazie ciao a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti